Se ti interessano i prodotti che utilizzo sia in puntata che nel mio quotidiano, puoi trovarli sul sito www.onemoretime.me. Se vuoi vedere contenuti inediti inerenti al podcast, puoi trovarli sul nostro profilo Instagram, onemoretimepodcast. Se voleste vedere invece contenuti che riguardano più la mia persona, vi aspetto sul canale Telegram attraverso un link in bio di tutti i nostri social. Io sono Luca e questo è One More Time. Sono contento di essere qui, è il mio podcast preferito. Wow, è un piacere. Un'accomodata casa pura. Un piacere di conoscere in persona. Il compleanno di Luca, i casi, gli abbiamo regalato il tuo ultimo libro. Ma veramente. Grazie di più. Grazie a tutti. Quindi dentro la parte bianca c'è un puntino nero, dentro la parte nera c'è un puntino bianco. Lui mi chiese che cosa vedi qui? E io risposi io vedo due opposti che però si riescono in qualche modo a incastrare. E lui mi disse questa è la tipica visione dell'occidentale. Voi vedete opposti dappertutto, voi vedete separazione, due cose che si incastrano bene, ma che comunque sono due cose diverse. Tu non devi guardare né il bianco né il nero. Il punto più importante di tutti è la linea che li unisce. Quella è la strada dei saggi. Quella è la via di mezzo. Finalmente eccoci qua. Il finalmente è perché abbiamo fatto una cosa insieme a livello lavorativo qualche anno fa. Un podcast che riguardava appunto la felicità, dove ho avuto il piacere su commissioni di Audible di trovare l'host giusto per produrre quel podcast e l'host eri proprio tu. E quindi ci siamo conosciuti in quel momento, però oggi finalmente ci diamo un volto nella vita reale di persona. E tu hai attirato qui la mia famiglia, nel senso che mia madre e mio fratello Lorenzo, tra l'altro ho intervistato entrambi Nicoletta Amato e Lorenzo Casadei, non sono mai venuti a vedere l'intervista di nessuno e sei il primo che li ha portati qua. Tra l'altro mia madre non vive in Lombardia, quindi si è fatta pure il viaggio. E quindi vuol dire che c'è qualcosa di speciale in te. È un grande onore questo per me, grazie. Ed è un piacere tra l'altro poterti incontrare di persona perché, come tu ben sai, facciamo tante call, ci sono tanti progetti che possono nascere, ci sono tante collaborazioni, ma raramente c'è un dettaglio che ti colpisce e il dettaglio che mi colpì nel tuo caso è che la tua persona mi fu presentata come una persona che non possiede uno smartphone. Era qualcosa che mi aveva affascinato tantissimo, poi ne abbiamo parlato anche di questo e da lì insomma avevo questo desiderio di incontrarti di persona, poterlo fare qui. È veramente un grande piacere, grazie anche per l'invito. Grazie a te di essere venuto. Faccio una premessa. Pochi giorni fa era il mio compleanno, detesto gli auguri, quindi non farmeli, ma te lo dicevo perché. Perché la mia famiglia mi ha detto cosa vorresti per il tuo compleanno e gli ho detto guarda mi piacerebbe approfondire le religioni, quindi mi piacerebbe la Bibbia, il Nuovo Testamento, la Torah e il Corano. E mi regalano questi tre libri sacri, questi tre tomi, ma ce n'è un quarto. Mio fratello Lorenzo fa sempre le aggiunte, non gli piace tanto fare i regali collettivi e mi regala il tuo ultimo romanzo per dirmi affacciati anche a quello che è il buddismo e vedrai che attraverso Gianluca avrai veramente una lettura, una traduzione, un istradamento molto dolce. Non l'ho ancora ovviamente fatto perché è accaduto settimana scorsa. In compenso io ascolto il tuo podcast che si chiama, se non sbaglio, Il Paradiso è qui. Il Paradiso è qui, sì. E c'è molto del tuo DNA. E mi ritrovo in tanti concetti di cui parli, la via di mezzo, in tantissime cose, ma il periodo monsonico. Volevo parlare di questo velocemente perché io ho fatto una grande esperienza nella vita che si chiama Hoffman, il metodo Hoffman. Lo conosco, sì. E prima di andare lì si fanno dei materiali preparatori e quando tu vai lì per otto giorni stacchi dalla tua vita e tutti dicono ma figurati io se posso staccare dalla mia vita. Quindi quando hai parlato del periodo monsonico mi è venuto molto in mente quello, lascio tutto così com'è, faccio quella cosa lì intensamente e quando tutto finisce riprendo dove ho lasciato. Molto profondo. Però adesso non vorrei spoilerare degli argomenti che spillolerai tu, credo che tu conosca one more time. Assolutamente sì. E quindi partiamo dall'inizio. Quando sei nato, dove e in che contesto? Io sono nato il 22 maggio del 1990. Era un martedì e pioveva, in base a quello che mi è stato raccontato. Sono nato a Torino. Sono nato in una città in cui, diciamo, quando sei molto piccolo, un bambino e anche nella preadolescenza a queste cose non ci pensi. Però quando poi ho raggiunto l'adolescenza mi sono reso conto che quello era un luogo in cui paradossalmente non riuscivo a sentirmi a casa. Quindi sono nato in una città in cui in un certo senso mi sono sempre sentito un po' straniero, lontano. A che età hai avuto quella sensazione? Diciamo a 14 anni, 13-14 anni. Però diciamo tutta la mia infanzia invece, ovviamente durante l'infanzia questi non sono pensieri comuni. Io vengo da una famiglia normale della classe media, quindi i miei genitori erano impiegati in banca. Ho un fratello più piccolo di due anni e mezzo e ho vissuto un'infanzia, devo dire una buona infanzia. Un'infanzia in cui non mi è mai mancato niente, come a tante altre persone, ma in cui ho sempre avuto però la consapevolezza di avere magari quel poco che però significa tutto. Quindi di non avere chissà che cosa, ma comunque di avere una base solida che è già qualcosa per cui essere molto grati. I miei genitori sono stati bravi in questo senso a farmi sempre essere consapevole per l'appunto che venivamo comunque da un contesto perlomeno tranquillo, perlomeno sereno. E così è stato per tutta la mia infanzia, diciamo fino all'adolescenza, dove poi le cose sono un po' cambiate. Ti faccio due domande rispetto alla pre-adolescenza. La prima è se la ricordi la tua infanzia, perché ti ho sentito spesso dire che i momenti felici si ricordano. Sì, e si ricorda ciò a cui noi prestiamo attenzione. Molto spesso noi prestiamo sempre attenzione quando le cose vanno male. Infatti i momenti negativi li ricordiamo benissimo, i traumi non riusciamo a lasciarli andare perché sono un ricordo troppo nitido nella nostra mente. Però anche i momenti felici si ricordano, spesso non in maniera dettagliata come quelli negativi, ma si ricorda la sensazione. Ci ricordiamo come stavamo, come ci sentivamo. Io ho dei bei ricordi della mia infanzia, assolutamente. Soprattutto ho un bellissimo rapporto con mio fratello, che posso considerare il mio miglior amico. Quindi ho tanti bei ricordi legati a lui, ma anche legati ai miei genitori e alla vita che facevamo, una vita per l'appunto semplice. Però c'era una bella atmosfera di casa, ed è qualcosa di cui è un bellissimo ricordo, oltre ad avere un ricordo magnifico di mia nonna, perché ho passato tantissimo tempo della mia infanzia e della mia preadolescenza con mia nonna. Materna o paterna? La mia nonna materna. Mia nonna paterna non ho mai avuto modo di conoscerla fisicamente, anche se ritengo che comunque il suo sangue scorre nel mio. Quindi anche se non ho avuto modo di conoscerla personalmente, con la consapevolezza che ho acquisito nel tempo, con le meditazioni, con certi ritiri che ho fatto, soprattutto in Centro America e certi rituali, ho iniziato ad avvertire la sua presenza, al punto che uno dei miei libri, ho deciso nei ringraziamenti di inserire sia mia nonna materna, che era ancora in vita, sia mia nonna paterna, che non ho mai conosciuto, ma che conosco su un piano, diciamo, ancestrale, diciamo così. Però diciamo ho avuto un ottimo rapporto con mia nonna, veramente un rapporto bellissimo. Cosa hai imparato dell'amore attraverso i tuoi genitori? Guarda, ne parlavo proprio con mia mamma qualche giorno fa. Noi siamo molto piemontesi in questo, quindi non ci sono mai state, diciamo, esternazioni di affetto. Per assurdo sono arrivate dopo, dopo il loro divorzio. A quel punto sono arrivate le esternazioni di affetto. Però prima, quando ero piccolo, no, non ci si diceva ti voglio bene, non ci si abbracciava, ma comunque sia io sia mio fratello ci sentivamo comunque al sicuro. E alla fine penso che le parole siano importanti, senza ombra di dubbio, però è più importante la sensazione che trasmetti. Penso che sia più importante il modo in cui fai sentire una persona rispetto a quello che a quella persona dici. E quindi devo dire che, ripeto, nella nostra infanzia non è mai mancato la sensazione di sicurezza, la sensazione di attenzione da parte dei genitori. Noi siamo figli sia delle attenzioni ma anche dei traumi. Ti dico questa cosa solo perché hai citato divorzio e volevo capire a che età è successo e come te l'hanno raccontato. Diciamo che, come dicevo, la mia vita è stata piuttosto, non ho grandi ricordi specifici dell'infanzia se non questa sensazione positiva. E poi a un certo punto una serie di situazioni e di eventi sono semplicemente accaduti tutti insieme. Ed è stato, forse per me è stato un po' troppo quello, perché ha dato il via a un periodo della mia vita poi che è stato caratterizzato da molte ombre e molte problematiche. È stato un fulminaccio al sereno, letteralmente. Semplicemente un'estate mia madre mi ha comunicato che lei e mio padre si separavano. Ed è stato qualcosa... A quattordici anni, sì. Stavo finendo la terza media, più o meno. Era l'estate tra la terza media e la prima superiore. E quello è stato abbastanza scioccante perché non avevo mai intuito i segnali di quello che sarebbe successo. Quindi quello è stato, credo, il primo momento della mia vita in cui ho provato una forte angoscia dettata dal fatto che stava succedendo qualcosa di così grande e di così inaspettato. E allora nella mia mente forse ha iniziato a formarsi questa idea per cui può succedere di tutto nella vita. Cioè tu hai vissuto la tua vita a questi quattordici anni credendo di avere delle basi, credendo che ci fossero dei pilastri, credendo che ci fossero delle cose inattaccabili e poi improvvisamente una di queste cose viene meno. Allora potrebbe venire meno tutto. Diciamo che quello è stato un po' il momento in cui nella mia mente qualcosa è cambiato. Ti ha fatto perdere fiducia nei confronti dell'amore? Credevi che l'amore fosse finto? Come te l'ha detto tua mamma? Ti ha detto che avevano finto o ti ha detto che era finito in quel momento e basta? Mia mamma mi ha detto una frase che non dimenticano mai perché io rimasi veramente senza parole quando me lo disse e le risposi ma come tu e papà sembrate una bella coppia? E lei mi disse questa frase, mi disse siamo stati dei bravi attori, non per tutto il tempo ma ultimamente siamo stati dei bravi attori. Questo però non ebbe l'effetto di farmi dubitare o smettere di credere nell'amore, al contrario. Al contrario mi fece pensare che qualsiasi cosa sarebbe successa nella mia vita adulta avrei cercato sempre di non recitare ma di dire le cose come stanno e di cercare di essere il più trasparente possibile, in qualunque tipo di relazione si sarebbe venuta a formare nella mia vita, di amicizia, d'amore, professionale, di qualunque tipo. Però quello è stato un momento abbastanza scioccante sia per me che per mio fratello proprio perché era qualcosa che non è arrivato passo dopo passo, non c'è stata una crepa che ha aperto il tutto, si è aperto tutto all'improvviso e in un periodo delicato come i 14 anni si è fatta sentire. Sul tuo carattere che impatto ha avuto rispetto ai tuoi amici, le tue relazioni sociali? Sul mio carattere ha avuto un impatto che non ti saprei definire precisamente. Posso dire che da quel momento ho iniziato a chiudermi molto dentro me stesso, non perché ce l'avessi con gli altri, non perché ce l'avessi con i miei genitori. A parte una prima fase dove è quasi inevitabile, perché tu hai 14 anni, hai vissuto 14 anni con determinate sicurezze, queste sicurezze vengono meno e inevitabilmente ce l'hai con loro, la colpa è loro. Poi crescendo nel tempo capisci tante cose. Penso che ci siano almeno due versioni di ogni cosa che ci succede nella vita, quella che raccontiamo a noi stessi mentre la viviamo e quella che raccontiamo a noi stessi tanto tempo dopo. Quindi sul momento la mia versione era i miei genitori sono degli irresponsabili, hanno sbagliato tutto, ci fanno soffrire. Nel tempo ho capito che non era assolutamente quello il caso, ma anzi che loro si sono impegnati molto per cercare di fare sì che questa separazione fosse comunque sana per me e per mio fratello e cercare di mantenere da un lato il loro benessere in equilibrio con il nostro benessere. Da un lato quello che loro desideravano dalla vita con una crescita sana per me e mio fratello. Quando processi un nuovo pensiero, lo fai con la maturazione o con il confronto diretto con la persona che ti ha causato quel sentimento? Lo faccio cercando di mettere tutti gli elementi sulla bilancia, cercando di avere una visione quanto più oggettiva possibile, per quanto sia impossibile averla. Però mi chiedo sempre se quello che sto pensando e se l'opinione che sto formando di qualcosa nasca tutta dentro di me e finisca tutta dentro di me. Oppure se prende anche in considerazione quello che stanno provando gli altri, quello che stanno passando gli altri. Il problema di una separazione, quando si hanno dei figli, è che i figli non conoscono le problematiche della vita adulta. Un ragazzo di 14 anni non ha mai avuto una relazione d'amore, non ha mai convissuto con nessuno, non sa cosa stanno attraversando i genitori e quindi vive tutto solo dal suo punto di vista. Con la maturità del tempo, con le relazioni, con tutto quello che è successo poi nella mia vita adulta, io ho capito tante cose e quindi sicuramente penso che non bisogna mai essere avventati nel giudizio o nel dire non ti voglio mai più vedere, ti odio, non voglio più avere nulla a che fare con te, perché come dice proprio un proverbio zen, non dire mai quest'acqua non la berrò, perché la vita è lunga e potrebbe venirti sete e questo vale per ogni situazione della vita. Dai 14 in poi come si evolve la tua adolescenza, la tua vita adulta? Io inizio a frequentare un liceo scientifico a Torino che era all'epoca forse il più difficile di Torino, quindi mi ritrovo scuola pubblica, però comunque il più difficile, il più tosto e mi ritrovo quindi in un ambiente dove c'è molta competizione e dove tutto è legato, è strettamente legato al risultato, al portare a casa i risultati e a cercare di, diciamo, di andare avanti, anche solo di andare avanti, perché mi ricordo che partimmo con una classe di 30 elementi e dopo due anni eravamo in 12 e poi addirittura scendemmo a 8 e quindi fumo costretti a entrare in un'altra classe, perché era davvero molto tosta questa scuola e quindi tantissime persone, diciamo, erano costrette a lasciare, erano bocciate e quindi ricordo che io vivevo da un lato la situazione che c'era a casa, che era una situazione nuova, sarebbe ingiusto dire che era una situazione di grande dolore o di grande disagio, perché appunto i miei genitori sono due persone con la testa sulle spalle, sono due persone mature, quindi cercavano di fare in modo che tutto andasse per il meglio, però inevitabilmente quando c'è una separazione tu sei abituato ad avere una casa, un letto, una cucina, un indirizzo e poi improvvisamente hai due letti, due cucine, due indirizzi, i tuoi vestiti sono un po' di qua e un po' di là, le tue cose sono un po' di qua e un po' di là, hai la settimana che è divisa nei giorni in cui sei da mamma, nei giorni in cui sei da papà e quindi diciamo che quello ti costringe un po' a crescere in fretta, a diventare adulto molto in fretta, però soprattutto ti dà molti pensieri che ti tolgono anche il tempo poi per fare quello che dovresti fare, cioè andare a scuola e cercare di fare il tuo dovere, diciamo così. Oltre a questo io non avrei voluto diciamo fare il liceo scientifico, però i miei genitori mi avevano spinto a farlo, io mi sentivo più portato per le materie umanistiche e quindi lì mi trovavo molto in difficoltà, molto in difficoltà al punto che ricordo già dopo qualche mese nel primo anno, disse a me stesso Gianluca l'unica cosa che conta è cercare di finire il liceo in cinque anni, non farti bocciare, dimentica le tue aspettative pregresse legate all'avere dei bei voti, semplicemente cerca di sopravvivere e sono entrato un po' in una modalità mentale di sopravvivenza che significava sicuramente studiare quello che bisognava studiare ma cercare anche di essere un po' scaltro, cercare un po' di sfruttare tutte le opportunità a mia disposizione per cercare di sopravvivere e di andare avanti, devo dire che è stata una bella soddisfazione riuscirci, uscire da quel liceo senza essere bocciato. E quando ti diplomi a 18-19 i tuoi amici vanno all'università, tu fai quel pensiero, cosa decidi in quel momento? Io arrivo all'ultimo anno del liceo con una certa pesantezza sul cuore perché quei cinque anni sono stati veramente duri, perché se da un lato lo sconvolgimento di quello che succedeva a casa mi aveva tolto le basi, la base più importante che c'è nella vita, che è quella appunto dell'unità della famiglia per un ragazzino almeno, mi ero ritrovato a vivere un po' con l'angoscia di dire può succedere di tutto nella mia vita, quindi non devo dare nulla per scontato, quindi questo mi portò a chiudermi molto dentro me stesso e allora non me li sono vissuti bene quei cinque anni, ma non a causa della separazione dei miei genitori, credo che anche a livello caratteriale questa scuola così diciamo difficile mi portò a chiudermi molto dentro me stesso e a vivere soprattutto intorno al secondo anno un periodo veramente brutto, delle settimane veramente brutte in cui mi chiesi quale fosse il senso di vivere la vita che stavo vivendo e lì successero due cose, da un lato esplose dentro di me il desiderio irrefrenabile di andarmene, io mi svegliavo al mattino Andartene vuol dire fare un viaggio? Andarmene da Torino, non importa dove, io non desideravo essere da qualche parte, io desideravo essere altrove, essere lontano dalla mia famiglia, essere lontano dalla mia città, essere lontano dai miei amici, essere lontano da tutti, da quella città, da quel cielo, da quella strada che facevo ogni giorno per tornare a casa. Questo desiderio è stata una forza importante, lo dico spesso anche adesso che noi tendiamo ad avere paura quando ci sentiamo disperati, ma la disperazione è una forza incredibile nella vita e quindi era quello che mi permetteva di svegliarmi la mattina e avere un po' la voglia di continuare, trovare un motivo per andare avanti, il mio motivo era finisci questo maledetto liceo e poi dopo te ne vai, vai il più lontano possibile da Torino. Dall'altro lato avevo degli amici ma non riuscivo a legare molto, non riuscivo a legare in profondità, forse proprio perché mi dicevo tanto hai una grande amicizia e poi finirà anche quella. La lascerai. Esatto, come è successo finirà anche quello. E quindi trovai i miei migliori amici nei libri e nella musica. Quello fu un periodo di salvezza per me. Tornavo a casa e o avevo le cuffie oppure avevo un libro tra le mani, sempre. Sono stati veramente la mia salvezza. Senza libri e senza musica non so onestamente come avrei potuto fare per andare avanti. però in questi cinque anni che sono un po' travagliati anche perché ho un rapporto con le ragazze un po' particolare, nel senso che non mi sembra di essere in grado di costruire nulla con il genere femminile. Con l'universo femminile. Perché non trovo in nessuna ragazza quello che non trovo nemmeno però in nessun amico. C'è un punto in comune. Tutte le ambizioni più comuni, tutti i desideri più comuni, tutte le cose che per gli altri, per i miei coetani, sono così importanti, a me non interessano. Tutto quello che interessa a me non interessa a nessuno. Finché un giorno, a 16 anni, ritrovo una ragazza che era venuta in classe con me alle medie. Non andavo nemmeno tanto d'accordo alle medie, però la ritrovo a 16 anni e me ne innamoro follemente. Quella ragazza è Claudia, che è oggi la mia compagna e la madre di nostra figlia. Però la storia poi si sviluppa ovviamente in maniera più approfondita. In lei che cosa trovo? Non solo ovviamente l'attrazione fisica, ma trovo la prima persona che mi dice io non vedo l'ora di andarmene da qui. Io non vedo l'ora di scappare da Torino, di viaggiare, di andare all'estero, di allontanarmi da questo grigiore. E quando io sento queste parole mi innamoro follemente di lei. È il tuo passaporto della libertà. Esatto, però tra i 16 e i 18 anni la nostra relazione ovviamente siamo ragazzini, quindi ci sono un po' di turbolenze, un po' di tira e molla. Però arrivo a 18 anni, all'ultimo anno di liceo, che con Claudia ho qualcosa di stabile. Qualcosa che non ho mai vissuto con nessun altro e che mi dà grande fiducia per il futuro. E tutto quello che mi era successo prima non era più un trauma per me, era una grande lezione. Non vivevo più il passato come una condanna, ma come una lezione. Non fare con Claudia quello che è stato fatto a te. Prenditi cura del tuo rapporto in una maniera che non c'è stata per i rapporti che tu hai avuto con gli altri in precedenza. Quindi mi ritrovo all'ultimo anno di liceo con la speranza di diplomarmi, di non essere bocciato. Avevo rischiato tantissimo tra la quarta e la quinta. All'epoca il sistema scolastico in Italia prevedeva che se avevi dei debiti, e io ho avuto debiti in tutti i quattro anni del liceo, se avevi dei debiti dovevi presentarti ad agosto e farti interrogare. Se passavi quella prova andavi avanti. Io in chimica ricordo di aver sbagliato completamente quello che c'era da studiare. Mi presentai lì e feci scena muta, al che si radunarono i professori e la professoressa di chimica disse devo dare un'insufficienza. Intervenne dalle vacanze il professore di filosofia dicendo non bocciatelo, perché questo ragazzo comunque merita di andare avanti. Non farà mai il chimico nella vita, sicuramente non lavorerà mai con le materie scientifiche, ma non bocciatelo. Io avevo una pagella, diciamo così, che era sturda, perché avevo voti molto alti nelle materie umanistiche e soprattutto in filosofia e avevo dei voti bruttissimi, orribili in fisica, in matematica, in chimica. Quindi grazie all'intervento di questo professore vado avanti, arrivo in quinta, in quinta rischio di essere bocciato di nuovo, non ammesso all'esame. Devo fare un esame di fisica dove ho i debiti e a un certo punto io non era proprio il mio. Quindi mi ricordo che mi presento davanti al professore, lui mi fa qualche domanda e io ci provo a rispondere. So che da quell'interrogazione dipende la possibilità di essere ammesso all'esame di maturità. Mi fa qualche domanda, io provo a raccontare qualcosa e lì succede per la prima volta una cosa nella mia vita, una cosa molto importante. Smetto di vedere quel professore come un nemico, smetto di vederlo come un professore e lo vedo per la prima volta come un essere umano. E allora guardo questa persona e dico potrebbe essere mio padre, potrebbe essere mio zio, potrebbe essere uno che io incontro là fuori per strada. E lo vedo lì che sta sfogliando i fogli, stanco anche lui dopo una giornata di lavoro, stufo di sentire sempre le stesse cose e che mi dice Gotto non va bene, non va bene, non sei nulla, io non posso fare nient'altro che metterti quattro, sapendo che mi avrebbero bocciato. E in quel momento gli dico, professore non si preoccupi, la capisco perfettamente, non ho nessun rancore nei suoi confronti, lei sta solo facendo il suo lavoro e il suo lavoro è di giudicarmi, io non sono preparato, quindi fa benissimo a far così, non si preoccupi per me. Mi dia il voto che mi deve dare e io lo accetterò in totale serenità, non servirò nessun rancore nei suoi confronti perché lei sta solo facendo il suo lavoro e io ce l'ho messa tutta, però nelle mie condizioni non ce l'ho fatta, va bene così, non si preoccupi perché lui stava cercando di spiegarmi perché mi avrebbero bocciato. Io dico questa cosa e lui letteralmente si ferma, immobile, mi guarda negli occhi, aveva gli occhi molto azzurri, mi guarda negli occhi e rimane senza parole per qualche secondo e poi abbassa lo sguardo, mi mette sei e mi consegna il foglio e io sono ammesso alla maturità. Io ho capito una lezione molto importante, cioè che noi viviamo di etichette, di risultati, di raggiungere sempre qualcosa, di dimostrare sempre il nostro valore, ma qual è il nostro valore più profondo? Alla fine siamo esseri umani e in quel momento io a lui ho parlato come un essere umano, non come uno studente senza considerarlo un professore, ma considerandolo come un essere umano. Ci sono stati tanti episodi così nella mia carriera scolastica, per quello prima dicevo che ho dovuto imparare a essere anche un po' scaltro e grazie a questo riesco ad essere ammesso all'esame di maturità. In quel periodo però la mia passione per i libri era sfociata nella scrittura, dalla lettura alla scrittura. Una notte avevo fatto un sogno, avevo sognato delle persone in un deserto che immaginavo fosse il deserto della California e quando mi ero soviato avevo detto a Claudia, le avevo mandato un sms dicendole voglio scrivere un romanzo su un gruppo di persone che si veglia nel deserto e non sa che cosa ci fa lì. Quindi inizio a scrivere questo libro mentre i miei compagni di classe studiavano per la maturità. Quindi mi ritrovo alla maturità di nuovo a maledire un po' me stesso, ma senza rimpianti perché il libro mi piaceva ed era finito, ero riuscito a finirlo. Vado alla maturità, in ogni caso grazie ai miei voti molto alti nelle materie umanistiche esco con un più che dignitoso 70 o 72 e a quel punto inizia la libertà finalmente. E come la vivi questa libertà? Malissimo. La vivo malissimo perché un conto è quello che pensi, un conto è la teoria e un altro è la pratica. Quindi non vedo l'ora di finire il liceo, non vedo l'ora di finire il liceo, finisce il liceo. Io e Claudia facciamo un viaggio negli Stati Uniti, è stato il nostro primo viaggio in California alla ricerca di quel deserto che avevo sognato, che non trovo. Con che soldi fate questo viaggio? I nostri genitori ci hanno detto volete un regalo per la maturità, ma non solo perché io sono nato il 22 maggio e lei il 6 giugno, quindi abbiamo detto fate una bella cosa, tutte le due famiglie. Una colletta. Esatto. Invece di farci è, diciamo regalate questo viaggio. E quindi noi andiamo a fare questo viaggio, prendiamo l'aereo, andiamo lì, visitiamo gli Stati Uniti, la California, è un viaggio di dieci giorni, molto breve. Torniamo indietro e diciamo bene, siamo liberi. Cosa ce ne facciamo di questa libertà? Non lo sappiamo. È tutto quel desiderio di lasciare Torino, di scappare, di viaggiare, improvvisamente abbiamo paura. Perché? Perché tu quando sei dentro la scuola sei dentro una struttura, la puoi odiare quanto vuoi, ma la struttura ti dà anche la sicurezza. E infatti poi questa cosa ce la portiamo anche nella vita adulta. Molte volte preferiamo la sicurezza alla felicità. Preferiamo una infelice sicurezza alla felicità, perché la felicità è rischiosa. E quindi anche noi non sappiamo cosa fare improvvisamente. Dove andiamo? Cosa facciamo? E i nostri coetanei vanno all'università o iniziano a lavorare. Alla fine ci diciamo, guarda, Claudia mi dice, io inizio a lavorare. Non so cosa altro fare. Inizia a lavorare, fa la barista. E io non sapendo cosa fare mi iscrivo all'università. Non perché volessi fare l'università, ma perché non sapevo cos'altro fare. Non sapendo cosa scegliere, scelgo giurisprudenza completamente a caso. Duro tre mesi. Dopo tre mesi in cui mi sento veramente un pesce fuori d'acqua e penso che sto sbagliando tutto nella mia vita, cambio, passo a filosofia, perché andavo bene al liceo in filosofia, ma non cambia comunque la sensazione. Ricordo di quel periodo che sviluppo un tic. Guardo continuamente l'ora, guardo continuamente l'orologio, al punto che quando la gente mi chiede sai che ora è? Io lo so senza neanche guardare. È come se ormai sapessi sempre che ora è. Perché guardo continuamente l'ora? Questo l'ho capito solo molto tempo dopo, meditando, perché sentivo che il tempo mi scorreva tra le dita, come sabbia tra le dita, e non volevo rovinare e sprecare il bene più prezioso che abbiamo, il nostro tempo. Quindi questo malessere ha delle ripercussioni fisiche anche, nel senso che mi trascuro completamente e vado all'università, ma nonostante dei buoi risultati, ricordo che a giurisprudenza no, ovviamente. Però la filosofia diedi tre esami, presi 28, 28 e 30, ma ero assolutamente infelice. L'idea di continuare su quella strada, di essere a Torino per altri quattro anni, non ce la potevo fare. Un giorno Claudia vede questo mio malessere e mi dice, io personalmente sto odiando la vita che sto facendo. Lei lavorava come barista in nero, in un posto dove le davano forse 500 euro al mese e doveva assorbirsi battutine, molestie, le classiche cose che purtroppo tutti noi conosciamo, perché una ragazza giovane in un contesto dove l'età media è molto più alta e dove devi tra l'altro pure sentirti grata di avere quel lavoro schifoso, diciamo così, che ti hanno dato e quelle condizioni in cui ti hanno messo. Lei mi dice, io non voglio più fare questa vita, tu stai discendendo negli inferi e io ti amo troppo per vederti ridotto così. Quindi troviamo una soluzione. Io mi ricordo che parlando al telefono le dico, che cosa facciamo? Andiamo in Australia? Lei mi fa, andiamo in Australia. A quel punto io decisi di lasciare l'università, rinuncia agli studi, altra sensazione di libertà meravigliosa mentre camminavo per la scalinata di Palazzo Nuovo e me ne andavo, poi appena finita quella scalinata di nuovo la libertà fa paura. La libertà secondo me si può esercitare e si può godere della libertà quando ha un perimetro molto molto ampio, ma senza perimetro la libertà è caos e io ero nel caos più totale. Mi lascio l'università impaurito, pensando di aver fatto un errore, ovviamente deludo tutti i miei genitori e la mia famiglia per questo. Inizio a fare il dog sitter, prendo 5 euro all'ora facendo il dog sitter, metto da parte qualche soldo, Claudia ha i suoi soldi, di nuovo con regali di compleanno, cose, sempre a risparmiare sperando in un domani di poter cambiare vita, partiamo con un biglietto di sola andata per l'Australia e lì inizia la nostra seconda vita. Noi arriviamo in Australia senza avere idea di cosa fare, ma già il semplice fatto di essere saliti su quell'aereo e di essere andati dall'altra parte del mondo ci dà una sensazione di adrenalina che si mischia alla paura. A Torino era solo paura, lì era adrenalina e paura, era entusiasmo, era eccitazione, era siamo io e te dall'altra parte del mondo e ce la dobbiamo cavare, non c'è casa di mamma e papà, non ci sono aiuti, siamo lontanissimi. Quindi in quel caso è ci cerchiamo un lavoro, dobbiamo stare lì. Noi avevamo 2000 euro a testa più o meno, 500 euro vanno per il volo e abbiamo 1500 euro diciamo beh almeno un paio di mesi riusciamo a resistere, l'Australia è carissima, lo scopriamo subito, dopo due settimane quasi non avevamo più soldi e improvvisamente ci dicevano dobbiamo darci una svegliata, quindi cerchiamo una casa, troviamo una casa, vivevamo in un ostello fino a quel punto ma era troppo caro, facevamo le pulizie nell'ostello per diciamo farci abbassare il prezzo della stanza, troviamo una casa dove vive un italiano insieme a un'altra persona, l'altra persona poi se ne va, arriva un altro italiano, siamo in quattro a vivere in una casa aperta, ci manca il lavoro, cerchiamo il lavoro, Claudia lo trova subito come cameriera, lei ha già lavorato in Italia e anche se non parla bene l'inglese si vede che ci sa fare, quelli sono lavori dove saper fare è più importante di saper parlare, io invece sono completamente a secco di esperienza lavorativa quindi inizio a propormi dappertutto, vengo assunto come kitchen hand che sarebbe un tutto fare in cucina, lavoro nella cucina di questo chef tedesco, persona estremamente violenta, persona estremamente tossica che mi insulta dalla mattina alla sera dicendomene di ogni però io rimango, la tentazione di andarmene è forte, per la prima volta imparo cosa significa mangiarsi l'orgoglio e dire dimostra a te stesso chi sei, non a lui, a lui non devi nulla, dimostra a te stesso perché sei venuto qua in Australia, un'esperienza estremamente formativa, lavoro lì, poi il mio coinquilino mi dice guarda cercano nel posto dove sto io, ambiente molto più sano, molto più tranquillo, faccio il cameriere e quindi servo cappuccini, servo da mangiare ai clienti in questa terrazza bellissima. Siamo nel 2010, 2011, 2012, alla fine stiamo un anno in Australia dove cresciamo, in quell'anno abbiamo guadagnato credo 15 anni di esperienza, di vita, siamo cresciuti mentalmente di 15 anni, quindi ci ritroviamo a 22 anni a essere molto maturi e in quell'anno succede anche una cosa meravigliosa, cioè da turisti diventiamo viaggiatori, per la prima volta nella nostra vita facciamo un vero viaggio, non la vacanza nel villaggio, non il tour, ma facciamo un viaggio, compriamo un'automobile vecchissima con tantissimi chilometri tutta scrostata e da Pert arriviamo fino a Melbourne dormendo in auto. Dormiamo in auto di fianco al deserto che è il mio elemento naturale e sotto questi cieli stellati quell'auto è tutto, è la nostra casa, è la nostra cucina, è il nostro letto, è l'incubatrice dei nostri sogni per il futuro. Il nostro rapporto diventa incredibilmente stretto tra me e Claudia e ci rendiamo conto che non vogliamo fermarci, che viaggiare, qualunque cosa succederà nella nostra vita, viaggiare sarà un elemento centrale di quello che faremo, non importa come ma dovremmo continuare a viaggiare. Quindi l'esperienza in Australia si conclude con una delusione perché noi volevamo restare in Australia ma l'Australia ha delle leggi sull'immigrazione molto molto rigide che non ti permettono di rimanere a meno che tu non abbia delle qualifiche estremamente importanti che possono essere lauree, master eccetera, oppure qualifiche a livello pratico, saper fare qualcosa che gli australiani non sanno fare. Noi siamo due camerieri e ricordo questa frase tremenda che mi disse, tremenda, l'ha presi molto male. Il mio datore di lavoro mi disse noi non ti possiamo rinnovare il contratto perché scade il tuo visto e io dissi ma come non c'è nulla che io possa fare? Lui mi rispose tu sei solo un cameriere, non sei un cuoco, non sei una persona qualificata. Ci rimasi molto male e lì iniziai per la prima volta a pensare che forse dovevo trovare un modo per evadere dagli schemi rigidi della vita, dalle etichette, dalle categorie. Dovevo cercare la vera libertà. Volevo essere veramente indipendente anche da un visto, anche dall'idea che io fossi solo un cameriere. Però c'è stato comunque grande sconforto per questo perché sia io che Claudia dobbiamo lasciare la terra dove siamo rinati, dove siamo diventati noi stessi. Ecco, torniamo a Torino e lì decido di fare un corso per diventare panificatore. Io amavo fare il pane in casa quindi faccio questo corso, parte teorica, parte pratica e inizio a lavorare di notte. Mi sveglio all'una e mezza di notte, alle due sono in panetteria e imparo per più di un mese, imparo a fare il pane. Poi dopo inizio a lavorare pure in una panetteria lì a Torino, ma l'idea è con questa skill posso tornare in Australia e prendermi la residenza, posso realizzarmi. Però succede che improvvisamente conosciamo una ragazza canadese, parliamo con lei cista simpatica a Torino e diciamo sai cosa, perché non andiamo in Canada prima di tornare in Australia? Facciamo la stessa esperienza di vita e di lavoro là e quindi ci trasferiamo a vivere a Vancouver. Andiamo a Vancouver e ce ne innamoriamo follemente. è casa nostra, l'abbiamo trovata. Dell'Australia non ci interessa più nulla, abbiamo trovato il nostro posto nel mondo e dei Vancouver. Città bellissima, io, popolo fantastico, qualità della vita incredibile, attenzione all'ambiente, attenzione a quei temi che per noi erano cari. In Australia eravamo diventati vegani perché io per sbaglio ero finito a lavorare dentro un mattatoio e quindi nel tentativo di uscire da questo posto dove io dovevo solo scaricare delle scatole. Nel tentativo di uscire da questo posto, apro la porta sbagliata, mi trovo davanti alla scena della mattanza, decido di non mangiare più animali, Claudia era già vegetariana. Iniziamo a vivere in questo modo, con questa consapevolezza sul cibo e sulla crudeltà nei confronti degli animali e a Vancouver troviamo veramente tantissime persone come noi, cioè ci sentiamo a casa. Quando hai cambiato disciplina alimentare ti ha dato più lucidità mentale o non hai cambiato niente? Mi ha dato molta più lucidità mentale e molta più energia, perché scientificamente non te lo so dire, non so se sia una questione scientifica che una dieta, un'alimentazione a base vegetale migliora le tue prestazioni anche a livello mentale, però succede questo, che quando tu inizi a chiederti perché sto mangiando quello che sto mangiando, questa domanda si applica a tutto. Non è più una questione non voglio mangiare gli animali, è una questione anche quando non mangio gli animali, perché sto mangiando quello che sto mangiando? Cosa sto facendo? E quindi ha avuto soltanto effetti benefici su di me. L'unica cosa di cui mi pento in questo senso è non aver iniziato prima, perché dal liceo io mi portavo addosso diciamo un po' una tendenza a sfogarmi tanto sul cibo. Io quando sono arrivato in Australia pesavo 115 kg e quando poi ho lasciato l'Australia dopo essere diventato vegetariano e poi anche in Canada mi sono poi attestato sul mio peso attuale 85-90. Quindi è stato un bel cambiamento per me. Però appunto a Vancouver noi troviamo questa realtà, che è così lontana da quella di Torino, da tutto, stiamo benissimo e abbiamo trovato il nostro posto nel mondo. Però la vita ci dice no, perché succede la cosa peggiore che possa capitarti quando tu decidi di fare un'esperienza di vita all'estero, quando tu decidi di andare a vivere lontano da casa. E cioè che un giorno squilla il telefono e una persona della nostra famiglia è in ospedale ed è in fin di vita, ha avuto un infarto. Io e Claudia ci guardiamo, cosa facciamo? Torniamo. Torniamo. Seguiamo il decorso di questa persona che sembra spacciata e che in realtà si riprende. Piano piano, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese. Ma appunto sono passati dei mesi e noi abbiamo perso il visto in Canada, l'affitto e il lavoro. Noi lavoravamo persino insieme. Lei faceva la cameriera e io facevo le pizze in questo locale in pieno centro a Vancouver. Non possiamo più tornare in Canada, perché di nuovo le leggi sull'immigrazione sono molto ferre. Che cosa facciamo? Ci ritroviamo a 23 anni nel 2013, 23-24, 2013-2014, a Torino, città da cui eravamo scappati, a chiederci che cosa facciamo e a vedere tutti i nostri coetanei che iniziano a vivere. Perché i miei ex compagni del liceo avevano fatto tutti l'università, si laureavano, iniziavano ad essere assunti da grandi multinazionali, c'era chi guadagnava già 2000-2500 euro al mese e io ero un disoccupato che aveva due bellissime esperienze di vita all'estero, ma che concretamente non aveva nulla in mano. Nulla. Quindi mi ritrovo lì a Torino completamente sconsolato ed è proprio vero però che a volte hai bisogno di toccare il fondo, perché finché tu sei lì che, diciamo, fluttui tra la superficie e il fondo, non hai un appiglio, cioè sei lì che vaghi. Quando tocchi il fondo almeno hai una base da cui partire da qui e spingerti. E quindi io mi dico, ho dei risparmi perché in Canada lavorando di notte, inizialmente lavoravo come panificatore in piena notte in un panificio indiano. Lavoro durissimo ma molto ben pagato. Avevo messo da parte dei soldi, mi dico, mi concedo un anno per provare a fare della mia vita finalmente qualcosa che amo fare. Perché io finora nella mia vita non ho mai fatto quello che volevo fare. Ho fatto l'università perché non sapevo cosa fare. In Australia ho fatto il cameriere perché dovevo sopravvivere. Ho scelto di fare il panificatore perché mi avrebbe permesso di tornare in Australia. Ma che cosa vuoi fare tu, Gianluca? Qual è il motivo per cui ti vuoi alzare alla mattina e vivere la tua vita, vivere la tua giornata? Ci penso e ogni volta che io ero in una situazione di sconforto prendevo in mano un libro. Mi dico, ma se provassi a scrivere? E ovviamente l'idea di scrivere libri era assolutamente fuori discussione. Però mi dico. Perché ne avevi già uno nel cassetto? Ne avevo già uno nel cassetto che era stato un grande fallimento, nel senso che l'avevo autopubblicato. Ah ok, perché non volevo interromperti nel tuo flusso. Ma guarda, in realtà questa è una cosa che racconto a te ma che nessuno la conosce questa cosa. In realtà sui store online c'è questa pagina fantasma di questo libro perché è associato al mio nome e non c'è modo di eliminarla, ma va bene così. Io autopubblico questo libro con una piattaforma che non credo esista più, si chiamava Lulu. Loro cosa fanno? Ti stampano il libro e ogni volta che c'è un ordine te lo spediscono. Quindi io autopubblico questo romanzo. Cioè stampano man mano che c'è l'ordine e quindi non è mai stock. On demand, esatto. Io pubblico questo libro ma non so neanche come promuoverlo perché non ho tanti amici. Io ho Claudia e per il resto i miei libri ho la mia musica. Io per dirti una cosa sull'amicizia che è infatti un valore che poi ho riscoperto soltanto recentemente. Io al liceo non ho mai fatto una gita. Quando i miei compagni andavano in gita io dicevo ai miei genitori non sprecate soldi, me ne sto a casa, preferisco. Preferisco star da solo e leggevo e ascoltavo musica. Quindi io non avendo degli amici non ho neanche qualcuno a cui dire guardate io ho pubblicato un libro. Poi era gli albori dei social network quindi non è che... Quindi mi ritrovo lì, Claudia prova a spronarmi, mi dice andiamo al salone del libro. Vai col tuo libro e poi probabilmente dico ma no, non ho quel carattere. Quindi il libro è un fallimento. Io penso non sarò mai uno scrittore perché l'avranno letto solo 50 persone quel libro. Non sarò mai uno scrittore quindi anche solo per non essere ferito di nuovo non prendo nemmeno in considerazione l'idea di scrivere un libro. Però mi dico ma scrivere è qualcosa di molto ampio. Si può scrivere di tante cose nella vita e mi rendo conto che su internet è pieno di pagine e tutte queste pagine sono piene di testi. Ma questi testi dovrà pur scriverli qualcuno, non li scrive il proprietario del sito. Mi informo e durante un viaggio alle Canarie, a Gran Canaria, quasi come se l'universo mi ascoltasse, incontro al bar dove ero andato a leggere un libro e a bermi un caffè. Vicino a me c'è un ragazzo che è al computer e io sono così incuriosito da quello che sta facendo e mi chiedo cosa stai facendo? E lui mi dice che sto traducendo un manuale. Io lavoro come traduttore in remoto e vivo viaggiando. In quel momento mi si aprono gli orizzonti dell'intero universo, capisco qual è la mia strada e mi dico devo scrivere, voglio diventare qualcuno che scrive per il web. E quindi inizio a informarmi e scopro che esiste la figura del web writer, quindi dell'articolista. Assolutamente in Italia era il 2014, non ne parlava nessuno, no ma di digitali, vivere, viaggiando, lavorare in remoto. Ma io ci provo lo stesso. I miei risparmi, mi dico, mi do un anno di tempo per provare a fare della mia scrittura, la mia più grande passione, un lavoro. Per un anno scrivo articoli senza retribuzione, ne scrivo 600 in un anno, gratis. Scrivo di tutto, di musica, di sport, di attualità. Entro dentro redazioni, entro dentro mille progetti, apro anche un mio piccolo blog, faccio di tutto, finisco anche a lavorare, ma quello più successivamente. E a un certo punto capita che io lavoravo per questo sito, che purtroppo non c'è più, Italians in fuga, che raccontava il vivere all'estero. Quindi gli italiani che si erano trasferiti all'estero. Me lo ricordo benissimo. Esatto. Lui Aldo, una persona fantastica, che però mi disse, io non ho un budget, perché questo è un progetto che non si sostiene economicamente, lo faccio per mia passione. E quindi, non avendo un budget, mi dice, se vuoi puoi scrivere gratuitamente. Ne guadagni invisibilità e ti posso insegnare a usare gli strumenti della scrittura online, WordPress, i plugin, queste cose qua. Lo faccio, scrivo articoli per lui. Un giorno mi capita di intervistare un ragazzo che ha un'azienda a Malta, che si occupa di... Di poker, immagino, a Malta. Bravissimo, bravissimo. Di gaming in generale, di poker, nello specifico. L'intervista gli piace molto e lui mi dice, guarda, tu scrivi e sai scrivere, ma per caso te ne intendi anche di poker? Perché noi stiamo cercando un articolista. E io dico, sì, io gioco, cioè ho giocato, ho imparato in Australia da un giocatore professionista e lui mi fa, guarda, perché noi troviamo gente che sa giocare a poker ma che non sa scrivere e gente che sa scrivere ma che non capisce niente di poker. Sei la figura perfetta, ti assumiamo. Ti prendiamo a lavorare con noi. Pagandoti. Pagandomi per la prima volta. Per la prima volta. Dopo circa 11 mesi di scrittura gratis. E a quel punto io faccio il colloquio con il responsabile della redazione e ho solo una domanda per lui, una sola. La mia domanda è, posso lavorare in remoto, completamente in remoto e lui mi dice, per noi tu puoi lavorare anche dalla luna. L'importante è che lavori bene e che ci consegni gli articoli. Perfetto. Quello è il momento in cui posso partire e vivere viaggiando. Perché nel frattempo Claudia aveva trovato una via completamente diversa per fare qualcosa di simile. Lei aveva iniziato a dedicarsi all'artigianato e creava delle borse a partire dai sacchi di juta del caffè, dei chicchi di caffè. Faceva questi mercatini che andavano molto bene e quindi lei poteva vendere le sue borse per un periodo dell'anno durante i mercatini, soprattutto i mercatini invernali, quelli di Natale. E poi aveva tutto il tempo di partire, andare a cercare nuovi prodotti da trasformare. L'idea alla base del suo piccolo laboratorio di artigianato era di non avere mai nulla di nuovo, ma di riutilizzare sempre materiali di scarto. Quindi i sacchi di juta o potevano essere i pallet, tante cose. Lei le prendeva e dava una seconda vita a queste cose. Infatti si chiamava Ryzenstuff, il suo piccolo laboratorio, cioè che nella nostra mente almeno significava cose rinate, resuscitate. E quindi lei aveva quella sua attività che funzionava bene. Aveva vinto anche un premio a Torino e a una mostra per questo. Io avevo appena iniziato a guadagnare online otto euro ad articolo, avevo aperto la mia partita IVA e siamo partiti. Dove andiamo? Abbiamo il mondo intero che ci aspetta, possiamo andare ovunque. Momenti più belli della nostra vita, forse quelli in cui davvero lì a immaginare potremmo andare in Sud America, potremmo andare in America. No, in America no perché è troppo cara. Possiamo andare a Londra? No, a Londra non è troppo cara, poi vogliamo andare al caldo. Basta con questo freddo, con questo grigiore. Possiamo andare in mille posti diversi. Lei stava leggendo un libro di Tiziano Terzani. Io sono molto affascinato dall'Asia. Io non ho mai pensato all'Asia nella mia vita. Le dico andiamoci perché mi sono fidato di te sull'Australia. Andiamo. Partiamo con un vietto di solo andata di nuovo, arriviamo a Bangkok e inizia la vita che portiamo avanti ancora adesso. È iniziato tutto così. Che cosa succede lì? Nel senso tu arrivi a Bangkok dove sei un articolista verticale nel mondo poker. Lei torna d'inverno per fare i suoi mercati e fa ricerca durante le altre stagioni di materiali da riciclare? Quello che succede è che lei era partita con quell'idea. Poi però succede che poco prima di partire facciamo un ultimo mercatino al Gran Balloon, che è il mercato più grande d'Europa, che c'è a Torino. La persona che ha il banchetto vicino a quello di Claudia è una persona con cui siamo entrati in amicizia e lui vende statuette, pipe, perloppio, tutti dell'oggettistica strana che non si trova in Italia e che arriva tutta da Oriente. Quindi gli diciamo guarda non ci vediamo più dalla prossima domenica perché noi partiamo. Dove andate? Andiamo in Thailandia. E lui dice se vi capita di andare in Laos o in Cambogia scrivetemi perché vi commissiono degli oggetti che ho assolutamente bisogno di reperire perché ci sono dei clienti che li vogliono e io non posso più andarla a prenderli di persona, sono troppo vecchio. Quindi se ci andate voi ovviamente io vi pago la commissione. Tutto questo con Claudia perché io in realtà avevo il mio lavoro. Quindi noi andiamo là, lei ha l'idea di cercare nuove idee per i suoi prodotti, però poi finiamo in Laos, lei vede questo artigianato che è molto difficile da reperire in Europa, si mette in contatto con questa persona e questa persona gli dice assolutamente portami tutto, io ti pago le commissioni. Quindi lei inizia a far questo, oltre all'artigianato. Io vado avanti con il mio lavoro online e riusciamo a vivere viaggiando per tanti mesi. Adesso non ti so dire quanto, non un anno, però per sei, sette mesi sicuramente ce ne stiamo in Asia. Quindi la vostra residenza è il mondo e nello specifico l'Asia in quel momento. Sì, e in Asia soprattutto perché in Asia noi troviamo finalmente casa. Noi troviamo il posto in cui ci sentiamo a casa. Io sono stato in India recentemente e una persona mi ha detto gli stranieri che vengono in India e amano l'India sono al 100% anime che prima erano incarnate nel corpo di un indiano. Sono persone che prima vivevano in India e quindi vengono qua e si sentono a casa. Io non l'ho provato per l'India questo, ma l'ho provato per il sud-est asiatico, per la Thailandia, per la Malesia, per il Laos, la Cambogia, il Vietnam e per Bali soprattutto in Indonesia. Tutti i luoghi che noi abbiamo poi visitato nel corso degli anni, perché a quel punto la nostra vita era proprio quella che volevamo. Claudia porta avanti un po' questa cosa, poi però non è facile da portare avanti anche a livello tecnico e quindi inizia a cercare lavoro anche lei online. Un giorno a Koh Phangan, un'isola della Thailandia, incontriamo una donna russa con il suo cane, iniziamo a parlare e lei ci racconta una storia molto tragica. Lei aveva un marito estremamente violento e quando ha compreso che lui quel giorno sarebbe tornato a casa per probabilmente ucciderla. Lei decide di scappare. Scappa, prende il primo volo che trova, scappa dalla Russia e si rifugia in Thailandia. In Thailandia Koh Phangan trova questo cane abbandonato, diciamo così, un cane randaggio, diventa il suo cane, prende un piccolo bungalow lì, inizia a lavorare, c'è una forte comunità di russi, quindi inizia a trovare un contesto di comunità, è scappata da quell'incubo, ci racconta questa storia e in qualche modo noi le facciamo simpatia, perché lei dice a Claudia, io gestisco adesso un e-commerce, lavoreresti per me? Devi fare un lavoro molto noioso che io non voglio più fare, cioè fogli Excel tutti i giorni, ordini, mandare le email, gestire i resi, queste cose qua, e lei inizia a lavorare così, quindi. Nel frattempo Claudia aveva intuito che i social network sarebbero stato il futuro. Lei non ha i social network neanche oggi, non li ha mai avuti, ma intuisce che le persone sono sempre più su questo schermo e quindi pensa, come tu hai trovato un lavoro per scrivere online? Non c'è un modo per cui io posso lavorare con i social network e diventa una social media manager, cioè crea degli account da zero con l'unico obiettivo di farli arrivare il più in alto possibile in termini di follower e di engagement. Ne riesce a creare tre o quattro così, che vanno oltre i 100.000 follower. Ma come li monetizza? Adesso ti faccio delle domande pratiche. Non li monetizza. Lei aveva il lavoro con l'e-commerce, ma lei si dice, come faccio io ad andare da qualcuno e dirgli pagami per gestire la tua pagina Facebook. Quindi erano delle case history, ci voleva far vedere che era in grado di poter annoverare sempre nuovo pubblico grazie ai contenuti per poi far sì che quei numeri lì potessero convertire in consumo verso qualche e-commerce. In realtà lei disse questa frase che ricordo bene. Lei mi disse, io voglio un biglietto da visita. Io voglio presentarmi da qualcuno per cui voglio lavorare dicendogli guarda cosa sono riuscito a fare da zero. Queste sono le mie referenze. Questa cosa funziona? Il biglietto da visita viene assunta da un'azienda che produce proteine vegane. Era quella, diciamo, la sua nicchia. Inizia quindi a lavorare anche lei, come me, completamente in remoto. Quindi anche tutto l'artigianato, eccetera, rimane una passione. Lei le regala per i compleanni, eccetera. Ma il nostro lavoro a quel punto, nel 2015, è completamente in remoto. Indipendente da un solo luogo, indipendente da un ufficio, possiamo vivere viaggiando. Ed è quello che succede per gli anni a venire. Tu hai scritto cinque libri, hai venduto più di 500.000 copie, quindi un numero decisamente significativo. Ma sei partito da un libro che avranno letto in 50. Hai detto, non avendo pubblico, come può sapere la gente che io ho scritto un libro? Ma nel frattempo una cosa che mi ha colpito il cuore, parlo molto di più nelle interviste, qua mi sto godendo proprio l'ascolto, no? Perché si ascolta molto poco, purtroppo, ultimamente, quindi io me lo godo veramente, anche se molto di quello che tu stai dicendo lo so, l'ho letto, l'ho ascoltato, l'ho visto, però voglio farlo godere a tutti. Una cosa bella che fai dall'inizio è che non parli mai con l'io in prima persona, ma ogni volta che parli dell'evoluzione di quel viaggio, parli prima di tua moglie e dopo di te. Quando io intervisto molte persone, dove magari la coppia lavora, tendono a parlare solo di se stessi, mentre tu metti sempre in primo piano, o vi mettete entrambi sullo stesso piano, ma dai sempre una grandissima importanza a lei, questo è meraviglioso, mi tocca molto il cuore, non perché sia sensibile, ma perché sono un fan dell'amore ed è molto bello, quindi ti fa veramente onore. Ritornando sul pratico, perché poi One More Time è anche questo, no? Cerca di dare degli strumenti a chi ascolta, a chi guarda. Come fai? Quindi cinque libri, vendi mezzo milione di copie, ma qual è lo start, il kick-off? Come comincia quell'era lì? Pensare adesso, effettivamente nel 2023 a mezzo milione di copie vendute è qualcosa di incredibile, perché nel 2015 lavoravamo entrambi in remoto, ma ovviamente la cosa che non ho detto, ma penso sia anche scontata, guadagnavamo molto poco, molto poco. Guadagnavamo il giusto per continuare a vivere viaggiando, quindi stavamo a dormire negli ostelli. Ti volevo fare una domanda, hai detto che prendevo 8 euro l'articolo. Esatto. Scrivevo tantissimo. Quanto spendevate al mese per vivere in Asia in quel caso? Molto, molto poco. Spendevamo 500 euro in due, a volte. Cioè, affitto a mangiare e vestirsi no perché avevi già... Escludiamo il volo per arrivare in Asia, che era il costo più ampio. Una volta là riuscivamo anche a spendere 500 euro in due, perché all'epoca purtroppo non è più così adesso, ma forse è anche giusto così in realtà, perché questo ha creato del benessere per le popolazioni del posto, quindi va bene anche così, è giustissimo anche così. Però all'epoca veramente il costo della vita era molto basso in Thailandia, in Laos, in Vietnam, in Malesia, e quindi noi avevamo la possibilità di guadagnare 800.000 euro al mese e quegli 800.000 euro al mese erano più che sufficienti per vivere. Però quello era, diciamo, il nostro guadagno. E in ogni caso noi non avevamo mai imposto il denaro come obiettivo nella nostra vita. Per noi c'era qualcosa di più importante ed era la libertà. E la libertà era qualcosa che noi desideravamo. Quando a Torino volevamo scappare non potevamo. Quando in Australia volevamo restare e non potevamo. Quando in Canada volevamo tornare e non potevamo. L'unica cosa che noi avremmo voluto avere era la libertà di fare quello che volevamo. Di vivere come volevamo. Quindi noi abbiamo sempre messo la libertà davanti a tutto. Davanti ai soldi. E davanti ai soldi mi ha messo anche sempre il nostro rapporto. Cioè le nostre due priorità erano la libertà e la nostra relazione. Nulla si può mettere in mezzo a queste due cose. Sono le due cose più importanti. Tutto il resto deve essere una naturale conseguenza. noi siamo estremamente felici. A livello materiale veramente abbiamo pochissimo. Cioè io ricordo che a volte tornavamo a Torino e sentivo amici che lavoravano da Amazon, che lavoravano per grandi fondi di investimento, chi era a Lussemburgo, chi era a New York, chi era a Parigi, a Londra. Io non li imbidiavo. Nonostante guadagnassero quattro volte più di me, io proprio non li imbidiavo. Io non vedevo l'ora di riprendere a viaggiare, di riprendere la mia vita. Infatti noi non pensavamo minimamente a quell'aspetto. E nel 2016 però che cosa succede? Succede quello che secondo me accade un po' a tutte le persone quando trovano la felicità o quando trovano la realizzazione personale. Succede che quando tu stai bene il tuo primo desiderio, il tuo primo istinto è di condividere quello che hai imparato e di fare in modo che anche gli altri stiano meglio. Io non penso che esista una forma di felicità per cui a te sta bene essere in mezzo alla disperazione, vedere le persone intorno a te che stanno male. Quando tu sei felice la prima cosa che vuoi fare è cercare di rendere felice anche gli altri, vuoi condividerla la felicità. E quindi noi siamo lì e ci diciamo, siamo a Chiang Mai nel nord della Thailandia, stiamo osservando un tramonto sul fiume che passa per la città, di lì a poco andremo a mangiare nel nostro ristorante preferito, siamo abbracciati, siamo felici e ripensiamo al nostro percorso. È il 2016 e pensiamo, cavolo, tre anni fa lasciavamo il Canada e eravamo disoccupati e senza speranze a Torino. guarda dove siamo adesso e pensiamo a un certo punto quante altre persone ci saranno a Torino o in Italia che vivono la nostra stessa condizione di tre anni fa. In quel momento ci viene voglia di aprire un blog e di raccontare attraverso quel blog, non il nostro percorso, raccontare le alternative della vita. Non c'è soltanto una strada, non c'è soltanto una scelta giusta. Il mondo è pieno di opportunità. Si può vivere anche in maniera alternativa e trovare quella felicità che in una strada tradizionale non trovi, non perché la strada tradizionale sia sbagliata, ma perché non è giusta per te. È giusta per altri ma non è giusta per te. Allora noi diciamo apriamo questo blog e ci rivolgiamo a quelle persone che sono nella condizione in cui eravamo noi. Non abbiamo nessuna intenzione di monetizzarlo, il blog non ha né pubblicità né banner né affiliazioni, non ha nulla, è testo e immagini. Basta. Io ci metto la scrittura e Claudia ci mette la sua competenza sui social network. Quindi io mi occupo di produrre contenuti scritti e Claudia si occupa di farli arrivare alle persone. Li amplifica. Esatto. Lanciamo questo blog che si chiama Mangia Vivi Viaggia, pensando di rivolgerci a 5-10 mila persone da individuare in Italia che la pensino come noi, il blog esplode. Nel giro di un anno abbiamo già tra 50 e 100 mila follower su Facebook. Il sito nel giro di due anni arriva a fare quasi 10 milioni di visualizzazioni all'anno che per contenuti di nicchia come erano i nostri è tantissimo. Ti ricordi qual è il post che ha sovvertito questo dato o no? Sì, l'articolo più visualizzato del blog ancora oggi è un articolo che ho scritto io con una mia riflessione che si intitola Non sono i soldi a fare la felicità, è il tempo il bene più prezioso che abbiamo. Quindi un titolo anche un po' provocatorio per fare in modo che le persone lo leggessero. Io racconto tutto quello che penso della vita, la mia visione della vita. Quel singolo articolo viene visualizzato centinaia di migliaia di volte, condiviso ovunque su Facebook. Cresciamo tantissimo. A quel punto cosa succede? Che noi abbiamo i nostri due lavori in remoto. Tra l'altro a me piaceva molto lavorare nel mondo del poker, perché il poker è un gioco che smaschera tutti gli aspetti dell'umanità. A un tavolo da poker tu vedi tutte le sfumature dell'essere umano, tutte. Da una reazione rabbiosa alla calma zen di qualcun altro a tutto quello che c'è in mezzo. Quindi per me era una palestra di vita il poker incredibile. Ogni tanto ci davano dei lavori, ad esempio siamo andati a lavorare una volta in Slovenia, in un casino molto famoso, perché c'era un torneo, avevamo bisogno di qualcuno facesse il blog. Quindi ad esempio ci pagavano, andavamo lì, io scrivevo le mani, facevo il blog, Claudia faceva le foto. Lavoravamo così. A me piaceva quel lavoro, mi piaceva tantissimo. A Claudia piaceva il suo. Noi non avevamo intenzione di avere un'altra entrata, noi stavamo bene così. Però il blog cresce tanto e le storie che raccontiamo a un certo punto ci rendiamo conto sono tutte storie di persone non italiane. E la gente ce lo fa notare, quindi noi facevamo tanti articoli del tipo ho lasciato il mio lavoro in banca per viaggiare. e la gente ci diceva, sì, è tutto bello, ma guarda caso sono tutti americani questi, sono tutti del Regno Unito. Quando ci racconti la storia di un italiano che l'ha fatto? Per un italiano è impossibile. Noi avevamo stati i primi anche a parlare di van life, di nomadi digitali, di viaggio come rinascita, come riscoperta. Quindi dico a Claudia, sai cosa? La racconto la nostra storia, perché la nostra storia è una storia come quella che noi pubblichiamo di persone che neanche conosciamo, però noi siamo pure due italiani, noi siamo due che siamo partiti dal nulla. Inizio a scrivere questo articolo, lo salvo in bozze che ha tipo 800 parole, la volta dopo ne ha 2000, la volta dopo ne ha 5000. Quando arriva ad essere lungo 10.000 parole, vado da Claudia e le dico voglio scrivere un libro. E lei, come sempre, mi dice vai, però fallo bene. Come ti approcci al mondo dell'editoria, a una casa editrice? Si approcciano loro a te? Succede che io intanto inizio a scrivere il libro. Lo scrivo a Bali, che è diventato un po' la nostra base. Quando lo sto per finire inizio a dire a Claudia come facciamo con questo libro? Perché i nostri progetti sono tutti alla pari, quindi il libro non è mio, il libro è nostro. E ancora oggi è così, tutte le royalties dei libri sono divise dal 50 e 50, perché senza Claudia non ci sarebbe nessun libro. Quindi noi iniziamo a dire cosa facciamo? Penso, io le propongo, ma potrei magari inviarla a una casa editrice? Mi dice no. Tutto quello che noi abbiamo fatto nella vita, che ha funzionato, l'abbiamo fatto noi, senza che si intromettesse nessun altro. Ogni volta che abbiamo provato ad affidarci a qualcun altro, le cose non sono andate bene. Quindi fa, lo autopubblichiamo. Non andiamo ad una casa editrice, lo autopubblichiamo. C'è il servizio, c'è un servizio... Con Amazon lo fai? Esatto, sì, sì, Amazon KDP. Lo carichiamo lì, fai tutto tu, tutto diciamo il layout e quant'altro, assumiamo una editor che vive esattamente come noi, vive viaggiando e corregge i libri. Come la conoscete? La conosciamo perché a un certo punto non eravamo tanti nomadi digitali italiani. Un giorno abbiamo deciso noi di organizzare a Bangkok una cena tra nomadi digitali per conoscerci. Vengono sette, otto persone forse... Italiane? Italiane che vivevano esattamente come noi, esattamente come noi. Vivevano in viaggio e lavoravano in remoto. Tra di loro c'è questa ragazza che mi colpisce subito perché è abbastanza un personaggio. Parliamo, tra l'altro lei... abbiamo in comune anche una passione per la musica. Lei ha tatuato l'autografo di Tina Turner e penso, cavolo, una ragazza nel 2018 col tatuaggio di Tina Turner, davvero una cosa curiosa e affascinante. Iniziamo a parlare, lei fa la editor e dico io sto scrivendo un libro, ci mettiamo insieme in tre e diventiamo una specie di squadra. Quindi iniziamo a lavorare su questo libro, il libro poi è pronto, lo autopubblichiamo su Amazon e quella diventa la prima in realtà fonte di guadagno del nostro blog dopo due anni che lo abbiamo aperto. Anche lì non avevamo grandissime aspettative, anche se devo essere onesto. Io pensavo che comunque il libro sarebbe andato molto bene perché vedevo dal blog che c'era un interesse enorme verso i contenuti che portavamo. Quindi scrivo il libro, scrivo la nostra storia, sono molto onesto nel raccontare tutti i fallimenti del libro. Una delle prime recensioni mi colpisce perché dice io avevo comprato questo libro che si intitola Le coordinate della felicità pensando al classico manuale su come essere felici, no? E poi leggo questo libro, è una sequenza apparentemente infinita di fallimenti. Cioè a Torino non ce la fai, in Australia non ce la fai, in Canada solo alla fine arriva. E quindi dice ho apprezzato questo libro perché è onesto e quindi io sono molto onesto nel raccontare... E poi i tuoi libri hanno sempre due marce, fino a metà vai slow e dopo scali completamente. Anche con i romanzi è proprio così. E quindi niente, il libro va molto bene, diventa il libro autopubblicato più venduto d'Italia nel 2018-2019. Cosa succede? Che a quel punto tutte le case editrici ci manifestano. E la prima a farlo, ricordo benissimo, eravamo in Romania, io, Claudia e Maddalena, questa ragazza, la editor, e eravamo in Romania che stavamo semplicemente passando un pomeriggio così insieme. Arriva quest'email, proposta di videochiamata, di fare una videochiamata conoscitiva. E le dico a Maddalena non ci crederei mai a quale case editrice mi ha chiesto di fare una videochiamata. E lei dice, ti posso dire chi non è? Sicuramente non è Mondadori. Era Mondadori. È stata la prima case editrice a contattarci, attraverso questa responsabile, Paola, che poi nel tempo è diventata anche una mia cara amica. E quindi niente, iniziano tante case editrici a farci proposte, viene fuori una specie di asta, mi verrebbe da dire. Infatti, a quel punto come scegli? Io ho sempre scelto in base alle sensazioni che le persone mi davano. Perché se lavori con delle persone con cui non sei allineato, poi alla fine magari guadagni anche di più nell'immediato, ma poi è destinato a finire, non c'è continuità. Quindi io pensavo di nuovo. Io all'epoca scrivevo ancora articoli e non avevo intenzioni di smettere. Quindi pensavo, ma io la mia entrata ce li ho, i miei mille, mille e duecento euro al mese, ma io li ho. Io non devo scegliere per i soldi. Il mio stile di vita perfetto ce l'ho, la libertà ce l'ho. Io devo scegliere solo ed esclusivamente quello che funziona per me, che mi fa stare bene. Quindi, sia perché è stata la prima a contattarci, e questa è una cosa a cui ho dato molto peso, sia perché andavo molto d'accordo con lei a livello umano, stesso genere musicale preferito, passione per il tennis, insomma con questa persona di Mondadori, alla fine ci ritroviamo che rimangono solo più due case editrici e scegliamo loro, fondamentalmente, non per cedergli i diritti del primo libro, altro fattore molto importante. Lo ripubblicate con loro? No, il fattore importante è stato questo. Loro sono stati gli unici che hanno detto, il libro Loro lo potete tenere in autopubblicazione, che è una forma di competizione per la casa editrice, perché Amazon e basta, mentre di là c'è la casa editrice. Quindi è una forma di competizione, ma loro dicono, lo potete tenere in autopubblicazione, noi vogliamo che tu possa scrivere un romanzo, sogno della mia vita, sogno adolescenziale che si ripropone. E quindi non potevo che scegliere quello, anche se, devo dire di nuovo, ma non per farlo sodolcinato, perché la realtà dei fatti, senza Claudia, c'è stata una presa di consapevolezza molto importante quando abbiamo iniziato a ricevere un'email al giorno con proposte per scrivere un libro. E la consapevolezza è stata che io non sono in grado di occuparmi di quell'aspetto del lavoro. I soldi, i contratti, la burocrazia, quello è un mondo in cui se io entro, perdo me stesso. E se io perdo me stesso, come posso scrivere un libro scritto come lo voglio scrivere? È una distrazione. E quindi Claudia lì entra in gioco e dice, tu non ti devi più preoccupare di niente, mi occupo io di fare le trattative, dei contratti, delle questioni burocratiche, tu ti devi preoccupare solo di una cosa, scrivi dei bei libri, perché dipende tutto da questo. Al resto ci penso io. E quindi alla fine, io le ho detto a me piacerebbe fare con Mondadori, lei si occupa delle varie trattative per gli anticipi, eccetera, e inizio a scrivere il mio primo libro. E ne hai scritti quattro con loro? Ne ho scritti quattro, poi in realtà poi più avanti hanno deciso di acquisire anche il primo libro, perché una questione che comunque va presa in considerazione quando si autopubblica è la quantità di lavoro immensa che c'è nella gestione dell'autopubblicazione. Deve avere qualcuno che stampa i libri, perché non ci affidavamo al servizio di Amazon da quel punto di vista, quindi qualcuno che stampa i libri, qualcuno che faccia la logistica, e poi ci sono tutti i resi, è un lavoro che Claudia iniziava ad avere veramente fin sui capelli, quindi a un certo punto, visto che il libro in autopubblicazione si era anche molto sfogato, era ora di arrivare a un pubblico più ampio, abbiamo quindi deciso di cedere il libro a Mondadori con l'unica clausola di non modificarne neanche una virgola. Era un libro che per certi versi era molto aggressivo, che aveva un po' lo strascico della mia rabbia adolescenziale, della mia rabbia verso Torino. Loro ci dissero potremmo smussare un po' gli angoli su certe cose che hai scritto, ma io pensai alla fine io quando ho scritto quel libro me la sentivo così, deve rimanere così, anche perché quei libri successivi si vedrà un'evoluzione. E allora alla fine sì, in questo momento io ho pubblicato cinque libri con Mondadori. Quando conosci la profondità? Io so che una notte stai molto male, sei nella tua residenza nel mondo, in Asia, nome di vostra figlia peraltro, e lì succede qualcosa, conosci una persona e cambia un po' tutta la tua visione della vita. Sì, ho finalmente la possibilità di scrivere un romanzo, di vedere il mio nome su un romanzo, non sulla mia storia, il sogno adolescenziale. Lo scrivo, lo scrivo e fino a più o meno a tre quarti della storia va tutto benissimo. Poi nella fase finale che cosa succede? Che mi trovo a Bali e mi ammalo. Prendo la dengue, che è una febbre tropicale che nei casi peggiori può portare a un ricovero e può portare anche a delle emorragie interne. Io prendo la dengue, inizio a stare molto male a Bali, al punto di non riuscire più ad alzarmi dal letto. Avevo ovviamente l'assicurazione sanitaria che mi dice però la clinica che c'è a Bali non so quanto sia adatta. Se ce la fai, prendi un volo e vai a Bangkok. Succede spessissimo a chi si trova a Bali, è un'assicurazione sanitaria e purtroppo ha bisogno di cure, che l'assicurazione sanitaria dica prendi un volo e vai a Singapore, vai a Kuala Lumpur, vai a Bangkok. Vado a Bangkok, che per me era a casa, era lì che era iniziato tutto. Arriviamo alla sera, tardi, andiamo in questa nostra guest house dove stavamo da sempre, andiamo a dormire, mi sveglio al mattino, non appena mi alzo in piedi, svengo, riapro gli occhi con Claudia agitatissima che si chiede cosa stia succedendo, dico nessun problema, mi rialzo, crollo giù di nuovo, mi risveglio in un letto d'ospedale a Bangkok con delle persone, camice bianco, medici, infermieri, che si muovono intorno a me con la frenesia di chi sta vivendo qualcosa di estremamente rischioso, di grande, di serio. Io non so cosa stia succedendo, non riesco neanche a parlare, non riesco neanche a tenere gli occhi aperti, però vedo in un secondo, in un frammento, vedo gli occhi di Claudia, questi occhi azzurri come il mare, gli occhi che mi accompagnano da più di metà della mia vita e in quel momento provo una paura di morire lacerante. Qualcosa in quel momento si rompe dentro di me. La paura che quello sia l'ultimo momento in cui io vedrò i suoi occhi. L'ultimo momento in cui io vivrò la mia vita su questa terra è lacerante. In quel momento io mi abbandono portando dentro l'incoscienza dello svenimento questo terrore. Quando riapro gli occhi, il medico mi dice, la dengue non è un problema, sei giovane, sei in forma, va bene, però sei estremamente disidratato. Mi dici, non so come tu hai fatto a ridurti in questo stato. Perché? Perché quando sei tanto felice devi comunque cercare sempre di bilanciare le cose, di non pensare solo a goderti la felicità, di sempre mantenere i piedi per terra, cosa che io non facevo. Vivevo tutto proiettato all'esterno e non ascoltavo i segnali del mio corpo. Quindi con la dengue che è una malattia che ti disidrata tantissimo e io che bevevo magari un litro di acqua al giorno in un clima tropicale, mi ero rovinato. Lui mi dice, dobbiamo curarti la disidratazione, non posso ovviamente idratarti tutto di colpo perché i tuoi organi rischierebbero il collasso. Quindi piano piano ti fai una settimana in questo ospedale e noi ti reidratiamo e nel frattempo la dengue passerà. Abbiamo fatto comunque dei test, le emorragie interne non le hai, quindi l'unico problema vero è la disidratazione. mi dice, la disidratazione ha l'effetto collaterale di causare delle allucinazioni e tu sarai qua su questo letto fermo e immobile tutto il tempo perché non puoi alzarti, sei attaccato alle flebo. Mi fa, sei tranquillo? E io rispondo sì, anche se da quando avevo aperto gli occhi questa angoscia dentro di me era lì, ormai era lì. Passo dei giorni dentro quella stanza d'ospedale a vivere gli incubi peggiori che un essere umano possa provare e non riuscivo più a distinguere qual era l'allucinazione dalla realtà. Quindi succede che a un certo punto io sto fissando il muro davanti a me e improvvisamente penso Claudia è morta, l'hanno investita per strada qua a Bangkok e già mi dico come hai fatto a dimenticartelo? Te l'hanno detto prima è morta. Allora mi alzo, inizio a staccarmi le cose, inizio a urlare, a piangere disperato, entrano i medici, entrano gli infermieri, mi trattengono, provano a calmarmi, io dico Claudia, Claudia, Claudia e lei non è lì in quel momento. Perché? Perché nel momento in cui mi avevano portato dalla guest house all'ospedale e mi avevano caricato su questa ambulanza, l'ambulanza thailandese che in realtà era una specie di furgone, era troppo piccola per la mia altezza, quindi mi avevano piegato le gambe per farmi entrare dentro e avevo perso le scarpe. Allora Claudia era tornata indietro a prendermi delle scarpe, non era lì, loro provano in tutti i modi a calmarmi, il medico va subito a chiamare Claudia che per fortuna risponde e le dice se non torni immediatamente qui lo dobbiamo sedare e nelle sue condizioni questo è rischioso, è un pericolo di vita. E dice lei torna immediatamente indietro, io la vedo e in quel momento provò il sollievo più grande della mia vita, il sollievo più grande della mia vita seguito dalla consapevolezza che qualcosa dentro di me non funzionava più, dentro la mia mente qualcosa non funzionava più. Passo altri giorni così, tutte le mie allucinazioni riguardano la morte dei miei cali, è morto tuo fratello a Torino, è morta tua nonna, è sempre la morte, finché a un certo punto arriva il medico con un bel sorriso e mi dice sei a posto, abbiamo fatto le anali, sei guarito, prego, puoi andare. Esco da quell'ospedale, sono guarito nel corpo, ma la mia mente è finita in un luogo oscuro e io sono doppiamente disperato perché per tutta la vita avevo avuto un metodo e il metodo era questo, guardati allo specchio Gianluca, sei infelice? Sì, perfetto, andiamo a cercare le cause di questa infelicità e risolviamole. Ti rende infelice Torino? Cambia città, ti rende infelice il tuo lavoro? Cambi lavoro, ti rendono infelici le tue frequentazioni perché hai degli amici che invece di aiutarti a essere la miglior versione di te stesso ti trascinano verso il basso, verso i tuoi vizi? Cambia le amicizie. In quel momento io potevo cambiare tutto intorno a me, ma intorno a me era tutto perfetto. C'era Claudia, c'era il lavoro dei miei sogni, c'era un libro in pubblicazione con Mondadori, c'era la Thailandia, c'era il sole, c'era tutto. Dentro di me era un caos e io non sapevo più cosa fare perché avrei potuto cambiare qualsiasi cosa intorno, ma dentro quel nemico me lo sarei portato dappertutto, quell'oscurità era dentro di me, potevo andare sulla montagna più alta e portarmi dietro di me quel malessere. Quindi sono letteralmente disperato e quando penso a questo, quando penso al fatto che non so cosa fare, il panico veramente mi travolge da dentro, degli attacchi di panico fortissimi che mi impediscono di prendere un volo per tornare in Italia. Perché ero convinto che prendendo quel volo, quelle 10-11 ore Bangkok-Milano, su quel volo sarebbe successo qualcosa di orribile. Sarei morto. Avrei avuto un attacco di panico e mi sarebbe mancato il fiato e sarei morto. Io sono bloccato in Thailandia, preda di una depressione assolutamente inaspettata e che non riesco nemmeno a gestire, nemmeno a capire e a un certo punto non so più cosa fare e così mi rivolgo, vado all'ospedale. Vado all'ospedale, prendo un appuntamento con uno psicologo thailandese, che parla benissimo in inglese ovviamente. Non appena mi siedo nel suo studio e inizio a parlare, lui vedo che prende degli appunti e poi mi dice dovresti andare da uno psichiatra perché c'è bisogno di una cura farmacologica, subito. A quel punto ho avuto un attimo in cui ho pensato cosa sta succedendo, cioè qua sta succedendo qualcosa di grave, molto più grave di quanto immaginassi, ma quella paura è stata positiva perché a un certo punto mi sono detto fermati, sta davvero andando così la tua vita? Ti ritrovi dal essere all'essere una persona che deve andare dallo psichiatra a prendere i farmaci? Vado dallo psichiatra, lui mi prescrive un ansiolitico e mi dice se per l'aereo, mi fa ma se resti in Thailandia torna qua e facciamo degli esami più approfonditi e ti prescrive un antidepressivo molto tristemente molto comune, mi disse. Io esco da lì e penso questa non è la mia strada, non ho bisogno di questo. I farmaci servono, salvano la vita delle persone, sono importantissimi, ma io non ero ancora a quel punto, non ero ancora arrivato a quel punto e sentirmelo dire da un'altra persona, uscire dal mio chiacchiericcio tremendo della mia testa, sentirmi dire da un'altra persona che non conosco che ho bisogno di prendere un antidepressivo è uno shock positivo in un certo senso, perché mi dico no, fermati. Ci sono altre strade, ne sono sicuro. Mi piego quella ricetta, la metto nel portafoglio e prendo a camminare e mi dico devo trovare un'altra strada. In un certo senso mi arrendo alla vita, dico come se chiedessi alla vita dammi tu un segnale, dammi un segnale. È una mattina particolarmente disperata perché l'ansia mi tira proprio, mi trascina via dal sonno da questi incubi che poi faccio tutte le notti, mi trascina via dal sonno, mi sveglio, sono le quattro e mezza di mattina, inizio a camminare. Cammino per le strade di Bangkok perché almeno è buio, è fresco e quindi non c'è il problema sempre della disidratazione. Cammino, 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 finché a un certo punto sento un suono che ancora adesso quando lo sento, mi è capitato recentemente in Sicilia, mi strappa, mi dona un sorriso di pura pace e di pura serenità. È il suono della scopa che viene passata per terra. Mi giro e vedo un monaco buddista che sta pulendo l'ingresso del suo tempio. Mi fermo un attimo a osservarlo e io vedo che quella persona non conosce la mia felicità, non conosce la felicità esterna che io ho sempre inseguito. Quell'uomo non fa dipendere la sua felicità dal suo lavoro, dal luogo in cui vive, dalle sue frequentazioni. Quell'uomo ha trovato qualcosa di diverso, quello che poi avrei scoperto essere nel buddismo la serenità. La serenità non riguarda il lavoro che svolgi, l'età che hai, la persona con cui vivi, il luogo in cui vivi. La serenità riguarda come ti senti dentro, come ti prendi cura di te stesso. E io in quel momento ricordo di essere rimasto l'imbambolato a guardarlo mentre passava la scopa con questo suo sorriso beato, era l'alba. A un certo punto mi avvicino e dico chissà cosa gli dirò. Gli faccio una domanda, gli chiedo se magari hanno dei corsi, non so cosa chiedere. Quando mi avvicino e lui punta questi suoi occhi così dolci, così buoni, così puri nei miei, io non riesco a dire niente. Le uniche due parole che mi escono sono help me, aiutami. E lui si comporta come se quello che stava accadendo non fosse nient'altro che il nostro destino. Posa la scopa e mi dice vieni dentro. Mi porta dentro il tempio e mi inizia a parlare del buddismo. Quando tu mi parlavi mi sono venute le lacrime agli occhi perché vivo un periodo molto simile a quello che hai appena descritto. In questo momento? Sì. In questo periodo. Mi dispiace. Diciamo che io lo sto vivendo bene adesso perché ho deciso di agire, no? Quindi attacchi di panico qualche mese fa. Sono in terapia, vado da uno psicologo e ho capito che non devi mai scappare dalla sofferenza. E ho cominciato a fare un lavoro, lo dico per condividere perché magari c'è chi non ha possibilità di andare dallo psicologo, sono andato da uno psicologo esperto negli tacchi di panico, no? Mi è successo diverse volte. Un giorno mentre andavo allo stadio con mio figlio perché ero terrorizzato al pensiero che quando sarei arrivato lì, se mi fosse successo, come uscivo dalla fossa dei leoni? Era difficilissimo. Con tuo figlio oltretutto? Oltretutto, di otto anni. E quindi non riesco ad arrivare allo stadio. Non riesco a gestire la conversazione con lui. Mi metteva le manine sul petto, ero in scooter e io gliele dovevo abbassare perché avevo bisogno di respirare. E quindi credevo di dovermi concentrare sul respiro e più lo facevo e più mi agitavo. Arrivo a casa, quando sono a casa tutto va meglio, mi sono messo completamente nudo sul letto con la finestra aperta, avevo bisogno di respirare. E quindi prendo uno straccio, mi passo lo straccio sulle caviglie, sulla fronte e mi riprendo. Però ci voglio riprovare. Dopo due settimane torno allo stadio e cerco di non fare quei brutti pensieri. Arrivo allo stadio e cerco di arrivare un'ora prima della partita per non vedere troppa ressa e riuscire a gestire mentalmente il flusso delle persone. Questa cosa mi succede dall'inizio di questo campionato, però non l'ho mai voluto dire, ma lo sono tenuto sempre per me. E a cinque minuti dal fischio d'inizio devo andarmene. So che ho ancora l'autonomia per tornare a casa, per uscire, prendere lo scooter e tornare a casa. Ero con una persona, Francesco, un ragazzo che lavora con me nel podcast e chiedo a mio figlio se vuole rimanere con Francesco. Lui mi dice di sì. E quindi io vado. A quel punto dico devo andare in terapia. Non posso più vivere così perché ogni giorno, la mattina dopo, era domenica, porto mio figlio a scuola come ogni lunedì mattina e ero esattamente nelle stesse condizioni. Fino a scuola ero così. Ho detto non ci arriverò. Ci arrivo. Come prendo il casco suo, lo metto sotto la sella e chiudo la sella? Passa tutto. E quindi comincio a dire, a crearmi le mie assonanze dicendo ma quindi era legato al fatto che avessi la responsabilità di mio figlio? E ok, vado dallo psicologo, gli racconto le cose. Lui mi ha detto guarda come primo esercizio adesso tu devi evocare tutto ciò che ti preoccupa, che ti dà ansia. E io gli faccio una domanda, lui rimane sorpreso dalla mia domanda, gli dico lo devo evocare razionalmente o emotivamente? E mi confida dopo che nessuno gli aveva mai fatto questa domanda perché io riesco a distinguere le due cose. Per non soffrire, cerco di vivere la sofferenza ma di non farla entrare nella parte emotiva, come la rabbia. Ho fatto una puntata con Vittorio Sgarbi dove all'inizio la rabbia io la sento ma non mi voglio fare dominare dalla rabbia. Tra l'altro ci tenevo a farti i miei complimenti per il modo, per l'atteggiamento che hai tenuto. Grazie. Sei veramente un esempio. Questo è stato Lofman, sono state tante cose ma è stato anche l'obiettivo e l'amore accogliere il prossimo. E quindi mi ha detto devi evocare quelle cose che ti danno ansia. E io per 30 minuti, io ti giuro, ci provo e quindi penso a una cosa e dico non c'è nulla che mi preoccupi veramente, non ci riesco. E lo faccio una sola volta. Torno il sabato dopo e dico guarda non ho fatto i compiti, ti devo confessare che... E lui molto dolcemente mi dice non ti preoccupare, rientriamo nelle mie conversazioni, cioè nella mia settimana e poi mi dice ti invito a farlo emotivamente e tutti i giorni se puoi. E allora, e questo la scorsa settimana, e dico vabbè ci devo provare per forza. E quindi la domenica lo faccio per la prima volta e pensa una cosa però non mi riesco a concentrare. Allora dico aspetta fammi trovare una mail, fammi trovare una cosa che mi porta lì e poi chiudo l'iPad e sono esattamente in quel mood e lo vivo. E così succede. Ci penso e dopo un quarto d'ora trovo una, due, tre soluzioni. Guardo il timer e dico cavolo ancora un quarto d'ora, cioè non riuscivo più a concentrarmi. E lo rifaccio nei giorni seguenti tre volte. Vado da lui e dico guarda mi spiace essere così indisciplinato però io ci ho riprovato e gli dico faccio questa cosa e trovo la soluzione. Lui mi dice esattamente ciò che tu dovevi provare. Tu dovevi capire che quella cosa a un certo punto passa. La soluzione quindi quando tu tornerai allo stadio, tornerai in un luogo dove ti senti compresso, sappi che se ti concentri sulla respirazione o altro lo vai a enfatizzare. Passa. Devi solo sapere che è questione di pochi minuti, poi andrà via. All'inizio della conversazione con te mi stava venendo. L'ho notato. Lo so che l'hai notato visto come mi hai guardato e ti ringrazio per essere stato delicato. Mi è successo vent'anni fa, quindici anni fa una volta ed ero con un mio amico che è qui, si chiama Giovanni e lui quella sera mi disse cavolo sei bianchissimo e mi ha mandato completamente in tilt quando mi ha detto questa cosa e sono andato al pronto soccorso. E non mi è più successo per appunto quindici anni. E prima quando mi stava succedendo ho proprio pensato tanto passerà ed è andata esattamente così. Quindi scusami se ho aperto questa parentesi però forse può essere utile a chi lo sta vivendo perché vedo che molte persone in questo preciso momento stanno vivendo di attacchi d'ansia, di panico. Poi ho chiesto allo psicologo ma a mio figlio che mi ha visto così e io gli ho detto che andavo dal dottore per curare il mal di testa, cosa gli posso dire? E lui mi ha detto devi parlare di attacchi d'ansia perché è giusto che alla loro età debbano sentirne parlare, è importante. E quindi anche il fatto oggi di non viverlo più come un problema, di poterlo esternare, mi consiglia di non parlarne. Nel senso di non parlare di questa cosa con altri perché ti può portare in quel mood ma mentre tu ne hai parlato mi faceva piacere cogliere la palla al balso uno per fare io un miglio in più, per rendermi conto che si può fare, che è tutto mentale perché come arriva e come passa è soltanto psicologico. Quindi ti ringrazio, sei stato involontariamente un grande terapista, perdona l'interruzione. Non è un'interruzione, è un'integrazione assolutamente di vitale importanza che hai detto e quello che ti ha suggerito di fare il tuo terapista è una forma primordiale di meditazione. Io quando ho iniziato a meditare ero convinto che la meditazione fosse controlla il respiro. Controlli il respiro, vai nel panico. La meditazione è osserva il respiro, osserva come naturalmente stai respirando, prendi atto del modo in cui stai respirando perché questo ti aiuta a prendere atto e piena consapevolezza del modo in cui ti senti. È incredibile, credo che chi abbia letto il mio ultimo libro che racconta esattamente di queste mie esperienze, sentendo il tuo racconto abbia sicuramente pensato a quel capitolo in cui io racconto di quando a un ritiro di meditazione con questo maestro zen giapponese nel nord della Thailandia una ragazza ebbe un attacco di panico, violentissimo. Una cosa che io personalmente non ho mai provato così. Inizio a tremare, a piangere, le lacrime che scendevano, era pallida come un lenzuolo e faceva questo gesto che non dimenticherò mai così con le mani, come se provasse a scrollarsi la paura con questo gesto e non ci riusciva. A me veniva sempre il formicolio sulle estremità. Il formicolio è una cosa che purtroppo ho provato anche io e quello che hai detto anche tu una volta Claudia mi disse ma quanto sei pallido, ma stai bene, queste domande ti mandano ancora più nel panico. E cosa successe quella sera? Questa ragazza ebbe un attacco di panico violentissimo nel mezzo della meditazione. Iniziò ad alzarsi, avere questo respiro affannato, a muovere le mani. Tutti noi ovviamente nella nostra ignoranza ci rivolgemmo a lei. Quindi io non ero nelle condizioni proprio di alzarmi, di aiutarla, però altri si alzarono, mano sulla spalla, vai tranquilla che esso passa. Un altro disse ragazzi è troppo pallida, dobbiamo chiamare. L'unico che non fece nulla fu il maestro Zen, che a un certo punto alzò una mano e disse sedetevi tutti. Tutti ci sedemmo, la ragazza era lì che stava vivendo l'inferno in terra. Lui le si avvicinò, ma non troppo, a una distanza giusta per farle capire che era lì per lei, ma non era su di lei. Non le mise mai una mano sulla spalla, niente. E le disse semplicemente, lascia che la paura ti attraversi. Smetti di lottare. Lascia che il panico ti attraversi. E lei diceva, come faccio? Come faccio? Come faccio? Come faccio? Lui alla fine disse semplicemente, just be. Semplicemente stai dentro questo momento. E se questo momento contiene la paura, stai dentro la paura, stai dentro il terrore. Perché quando noi abbiamo il panico che ci sale dentro, se proviamo a strozzarlo, a fare una mossa tipo MMA sul panico, noi che cosa facciamo? Lo teniamo a noi. Quello non muore e noi lo teniamo a noi. L'unica cosa che possiamo fare in quei casi è semplicemente stare, essere, accettare quello che sta succedendo e in questo modo lasciarlo andare. Una metafora che utilizzo nel libro è proprio questa. Quando abbiamo un attacco di panico, è come quando d'estate improvvisamente scoppia un temporale. Tu non puoi fare nulla per fermare la pioggia. Non puoi andarla fuori e fermare la pioggia. Non puoi farlo. Che cosa fai? Che cosa fa il saggio quando scoppia un temporale? Si siede e aspetta che passi. E magari si gode anche il suono della pioggia. Tu dici che il buddismo non è una religione. Da quella sera, in quel tempio, come cambia la tua vita? La mia vita... Non c'è stato un momento in cui è cambiato tutto. Perché io ho incontrato il monaco a Bangkok, che era una persona estremamente buona. E poi a un certo punto io gli chiesi di insegnarmi la meditazione. Ci provammo, ma lui non era un buon maestro, lo riconosceva, e soprattutto non riusciva a spiegarsi bene in inglese. Aveva un inglese troppo elementare. Però mi disse, guarda, per caso, o per destino, mi viene da pensare, c'è un maestro zen giapponese, che è un maestro zen itinerante. Cioè lui viaggia molto per tutto il continente asiatico. Sta un po' qua, un po' là, in un tempo, in un altro. In questo momento si trova a Pai, nell'estremo nord della Tailandia. Se lo raggiungi, magari lui ti dà quella mano che io non ti posso dare. Quindi io, facendo veramente un atto di fede nei confronti della vita, decido di partire, con un treno ovviamente. Parto con questo treno, arrivo a Chiang Mai. In Chiang Mai io ci sono stato tantissime volte ed ero abituato a affittarmi moto, scooter, qualsiasi mezzo. Non ero nelle condizioni. Quindi ricordo che presi un minivan, addirittura, per arrivare a Pai. Arrivo a Pai, trovo questo maestro di zen e lui mi accoglie, diciamo così, nelle sue meditazioni, mi insegna a meditare. Ma la cosa più strana era che io uscivo da quel tempio ogni sera e non sarei stato in grado di spiegare a parole quello che lui mi aveva trasmesso. Era come se mi trasmettesse qualcosa che non poteva essere spiegato razionalmente. Una sensazione che dentro di me era chiara, ma che non poteva essere spiegata. E questa già è una cosa molto buddista. Cioè che noi dovremmo innanzitutto prestare attenzione al sentire. Perché la verità molto spesso è nel sentire, non nello spiegare. Non nella razionalità. E dovremmo cercare di dar meno importanza alla nostra mente. Cercare di vedere noi stessi come un insieme più ampio. Però quei giorni complici la depressione, complice il fatto che tutto stesse avvenendo così in maniera intensa in così poco tempo. Io non ho detto quella è stata una svolta per me. Tant'è che quando ho preso poi il pullman che da pai mi avrebbe riportato a Bangkok, io ho avuto un attacco di panico appena seduto. Perché? Perché avevo passato otto giorni immerso nei boschi con questo maestro in un ambiente assolutamente rilassante, eccetera. Mi siedo su questo bus pieno di gente, tutti che parlano, rumore, il rumore del motore chiuso. Tutto chiuso, i finestrini chiusi, fuori poi è buio perché è notte, perché è un bus notturno. Penso io devo stare qua sopra per 12 ore, panico che si scatena. Fortunatamente il maestro Zen mi aveva lasciato un segnale, un bigliettino con sopra disegnato un simbolo, simbolo del lenso, e quello mi diede una specie di salvagente a cui mi aggrappai. Mi ricordai le parole di quando l'aveva disegnato. Lui mi aveva detto la meditazione ti aiuterà, ma non subito, perché non sei abituato a meditare. Ci vorrà tanto tempo, ci vorranno anni. Nel frattempo sappi che il Buddha ha indicato otto punti, otto passi, che se noi li seguiamo nella vita ci aiutano a non essere più felici, a non ottenere di più, a essere più sereni, a essere più calmi. E quindi da quel momento ho iniziato a darmi come missione personale quella di cercare di prendermi cura di questi otto aspetti, che sono da un lato spirituali e dall'altro anche molto pratici. Il Buddha diceva che dobbiamo curare la parola, dobbiamo curare l'azione, quello che noi facciamo, dobbiamo curare il pensiero, ma anche il modo in cui lavoriamo, il modo in cui noi mettiamo uno sforzo nella nostra attività quotidiana. Da quel momento è iniziato il mio percorso col buddismo, che io non ho mai vissuto in maniera religiosa, anche se comunque mi viene da dire che è una forzatura viverlo in maniera religiosa, perché il Buddha non parlo mai di Dio, mai. Lui diceva Dio, l'origine dell'universo, cosa c'è dopo la morte. Sono questioni con cui l'uomo si danna l'anima, con cui l'uomo si rovina la vita, che non ci servono a niente. Noi per vivere una buona vita non abbiamo bisogno di Dio, non abbiamo bisogno di sapere da dove veniamo e non abbiamo bisogno di sapere dove andremo. La vita si svolge in questo momento e in questo luogo. Noi dobbiamo cercare di cambiare il modo in cui noi stiamo dentro la vita. E quindi tutto il resto è qualcosa che non ci interessa. Quindi è una religione senza religione. Il buddismo io l'ho preso come uno stile di vita e mi ha aiutato enormemente, sotto molteplici aspetti. Dal 2019 a oggi io ho meditato ogni singolo giorno della mia vita, anche solo per dieci minuti. E questo ha contribuito in maniera immensa nel migliorare la mia salute mentale e soprattutto nel rendermi una persona calma, che è una cosa che non avevo mai avuto. E posso dire che ti considero una persona molto calma, molto riflessiva, e adesso che hai raccontato questa cosa capisco perché. Perché penso che a questo stadio, a questo contenimento in un certo senso, ci si può arrivare soltanto attraversando la sofferenza. Una persona che non ha mai sofferto non può conoscere la vera calma. La vera calma è la ricompensa di chi è passato attraverso l'inferno e ne è venuto fuori. Mi fai venire in mente la parola equilibrio. Volevo parlare un secondo della via di mezzo, di cui parli nel tuo romanzo, che è, se posso dare una massima rispetto a come la interpreto, non eccedere e non astenerti. Cerca di vivere tutto, ma in una maniera moderata. Mi racconti meglio questo concetto? Certo. Io questo concetto l'ho scoperto quando un giorno stavo parlando con questo maestro Zen. Lui era impegnato in quella che è una forma di meditazione, ma io ancora non lo sapevo. La meditazione non è solo sedersi a gambe incrociate con gli occhi chiusi. La meditazione è qualsiasi attività che noi svolgiamo con la piena presenza. Quindi lui stava dipingendo, o meglio, stava dipingendo dei caratteri, quindi quella è l'arte della calligrafia, che nel buddismo Zen è una forma di meditazione. Lui stava dipingendo queste cose e io gli stavo raccontando quelli che erano i miei malesseri. E a un certo punto lui ha disegnato il simbolo che noi qua conosciamo come Yin e Yang. Quindi questi due opposti che si incastrano. Quindi dentro la parte bianca c'è un puntino nero, dentro la parte nera c'è un puntino bianco. Lui mi chiese che cosa vedi qui? E io risposi io vedo due opposti che però si riescono in qualche modo a incastrare. E lui mi disse questa è la tipica visione dell'occidentale. Voi vedete opposti dappertutto, voi vedete separazione, due cose che si incastrano bene, ma che comunque sono due cose diverse. Ma tu non devi guardare né il bianco né il nero. Il punto più importante di tutti è la linea che li unisce. Tu guardi il bianco, il nero, il puntino bianco, la linea che li unisce non la vedi. Ma quella è la strada dei saggi. Quella è la via di mezzo. E cercare di portare l'equilibrio in tutto quello che facciamo nella vita. Perché ogni volta che noi perdiamo questo equilibrio, generiamo sofferenza, che spesso non arriva subito, ma che inizia a ribollire, 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 finché non esplode. Lui mi disse questo e inizia a riflettere. Ne in che modo io non sono stato equilibrato? E poi la risposta è emersa dentro di me. Io non sono stato equilibrato perché per tutta la mia vita adulta ho cercato la felicità là fuori, facendo finta di non sentire i mostri che avevo dentro e che mi portavo dentro, magari dalla separazione dei miei genitori, magari dalla mia infanzia, magari dalle delusioni a scuola. Tutte le cose che mi avevano ferito nella vita, io non le avevo mai ascoltate, non le avevo mai vissute. Le avevo ignorate, cercando di costruirmi uno stile di vita che andasse talmente veloce da darmi l'impressione di lasciarmela indietro. Poi non appena la vita mi aveva costretto a fermarmi dentro un lettino, non potendo più viaggiare, non potendo più distrarmi, quei mostri erano venuti fuori ed erano ingestibili perché non mi ero mai preso cura di quel mondo interiore. E quindi l'equilibrio secondo me va portato in tutto, anche per l'appunto nel piacere. Il Buddha ha una storia molto molto affascinante, lui era un principe ricchissimo che era stato ingannato dal padre perché il padre aveva ricevuto una profezia da un bramino. Questo bramino gli aveva detto tu avrei un solo figlio maschio, il padre era un grande regnante nel nord dell'India, nell'attuale Nepal, tu avrei un solo figlio maschio, ma questo tuo figlio sarà o un grandissimo condottiero, oppure diventerà una guida spirituale. E il padre terrorizzato all'idea che il figlio non proseguisse nella gestione del regno, si era fermato e aveva pensato io cosa posso fare per farsi che mio figlio non se ne vada mai dal regno, mai, che voglia sempre stare con me, che voglia rimanere qui. Semplice. Gli do quello che tutti per strada, in giro, credono di desiderare. Una vita senza sofferenza. Quindi gli diedo una vita piena di piacere, piacere cibo, piacere sessuale. Ogni suo desiderio era immediatamente esaudito. Passano 29 anni e questo principe si ritrova a 29 anni a desiderare solo una cosa, andarsene. Quindi lui esce dal palazzo, vede per la prima volta nella sua vita un anziano, vede per la prima volta nella sua vita un malato. Il padre gli aveva escluso ogni forma di sofferenza e vede per la prima volta nella vita un morto. Scopre che nella vita si muore. È talmente scioccato che decide di abbandonare tutto nel palazzo e diventare un'eremita. Quindi passa dal piacere più estremo al dolore più estremo, perché smette di mangiare, smette di dormire, flagella il suo corpo, si fa del male perché dice magari trovo qualcosa di vero nel dolore, perché nel piacere non l'ho trovato, ma non trova niente di vero neanche nel dolore. E a quel punto capisce che non possiamo pensare di trovare nulla di vero nella vita nel piacere smudato, ma neanche nel dolore, perché il dolore non serve a niente. Lui si ritrova sul punto di morire distenti e pensa a cosa è servito vivere per vivere così male? La via che devo seguire è la via di mezzo. E quindi la via di mezzo per un buddista è, diciamo, un promemoria che dobbiamo portare in ogni situazione della vita, ma soprattutto dove, almeno nel mio caso è stato così, nel rapporto con me stesso. Va benissimo vivere nel mondo là fuori. Io credo fortemente che noi non siamo qui per sopportare, non siamo qui per sopportare un destino che non abbiamo scelto. Certamente ci sono cose che sono al di fuori del nostro controllo, ma ce ne sono tante altre che sono sotto al nostro controllo. E se non si incastrano bene con noi e con la nostra idea di felicità, vanno risolte e vanno anche cambiate. Bisogna anche accettare il cambiamento esterno. E io l'avevo fatto da 20 a 29 anni della mia vita. Questo è importantissimo, ma non è sufficiente. C'è tutto un mondo che non si vede, c'è tutto un mondo che noi vediamo chiudendo gli occhi, che è il mondo che abbiamo dentro. Dobbiamo prendercene cura. Perché se non ci prendiamo cura di questo, può succedere quello che è successo a me, di ritrovarci a vivere una vita che è il paradiso fuori, ma è l'inferno dentro. La via di mezzo è questa. Non chiuderti dentro te stesso, come facevo durante la mia adolescenza, non vivere però nemmeno soltanto nei piaceri che ci sono là fuori. Siamo sul rush finale. Vorrei parlare di un dono della vita che è vostra figlia. L'avete avuta subito? Avete fatto fatica? L'avete desiderata per tanto? Perché adesso? Io penso che quando si parla di genitorialità, molte volte quando ci si interroga sul perché ho deciso di diventare genitore, ci si rifà a una sorta di istinto materno o paterno. Quindi capita spesso che uno dice io mi sono sempre immaginato papà, io mi sono sempre immaginata mamma, era quello che ho sempre desiderato. Nel caso mio di Claudia non è così. Perché? Come individui singoli non abbiamo mai pensato all'idea di fare figli. Però poi che cosa è successo? Che a un certo punto ci siamo incontrati e ci siamo trovati talmente bene l'uno con l'altra. Ci siamo fidati talmente tanto l'uno dell'altra. Si è venuto a creare un amore e una connessione così profondi tra di noi che improvvisamente è emerso il desiderio di avere un figlio. Quindi la prima cosa che ci tengo veramente a dire è che non si è genitori come singoli individui. Questo desiderio, questa volontà, arriva quando trovi la persona giusta. E questo è anche il modo secondo me più sano di fare figli. Perché molte volte capita che alcune persone, perché hanno il desiderio diciamo proprio, individuale, di avere un figlio, cerchino un partner, non dico qualsiasi, ma si accontentino di un partner che non è giusto per loro pur di avere un figlio. E questo è un problema soprattutto per la vita che poi vai a mettere nel mondo. Quindi secondo me la genitorialità nasce sempre dalla coppia. E questo desiderio per noi è nato così. Abbiamo prima risolto tutti i nostri problemi molto pratici, cioè dove vivere, come vivere, come guadagnarci da vivere. E a un certo punto ci siamo resi conto che ci avrebbe fatto enorme piacere avere un figlio. Ci avrebbe dato grandissima gioia allargarci. Allargarci, vedere qualcosa nato da noi due, da due persone che si amano e che si rispettano così tanto. Però proprio in quel momento, proprio quando abbiamo iniziato a pensare seriamente a questa cosa, è venuto fuori che avevamo un problema fisico e che le nostre possibilità di riuscirci erano praticamente nulle. Io parlo al plurale perché credo che quando si è in una relazione sana e quando si è in una relazione forte non esista più un tuo problema o un mio problema. Se tu hai un problema è un nostro problema. Quindi non ha importanza dire di chi era il problema. Il problema era nostro. Io ho un figlio lo volevo fare soltanto con Claudia e lei lo voleva fare con me. Quindi era un problema nostro di coppia. E a quel punto ci è stata prospettata l'idea di seguire un percorso diciamo medico per avere un figlio. È una decisione che io ho rimesso completamente nelle mani di Claudia perché il suo corpo, ed è giusto che sia soltanto lei a decidere che cosa fare, lei ha detto io non me la sento così. Siamo due persone fataliste. Noi crediamo che la vita ci parli continuamente attraverso segnali più o meno evidenti e che nulla vada forzato nella vita. Se qualcosa si può fare bene ma se devi troppo forzare la mano la nostra visione è che forse il tuo destino è un altro e che va bene così e che a voler forzare un destino poi quella strada magari ti porti più sofferenza che gioia. È stato un periodo molto difficile anche perché io venivo, ero appena uscito da questa fase che ho raccontato di depressione. È stato un periodo molto difficile ma che è durato poco perché un giorno ci siamo presi del tempo solo per noi due, abbiamo chiuso fuori il mondo e ci siamo detti sai cosa? Noi avremo una vita bellissima anche se non avremo un figlio perché magari il nostro destino non è quello di diventare genitori. Va bene così, lo accettiamo e ci preoccupiamo di quello che possiamo controllare. Con quella serenità è successo che qualche settimana dopo Claudia era incinta. Perché secondo me nel concepire è fondamentale la leggerezza, la gioia, la serenità, l'unione, tutte quelle cose che dal mio punto di vista corrispondono al vero amore. È stata una notizia incredibile che guarda caso abbiamo scoperto in Thailandia, questo paese che torna sempre. Nostra figlia è nata al 7 settembre dell'anno scorso del 2022 a Bali, posto in cui non siamo nati noi ma in cui noi abbiamo trovato casa e in cui lei è nata. È stata accolta dall'isola degli dèi in una notte bellissima piena di stelle e da quel momento è iniziato il nostro percorso in tre. Meraviglioso quello che hai detto. Continuerete a viaggiare? Te lo domando per l'istruzione di Asia, nel senso come farà a studiare se sarete sempre in giro? Qual è il vostro piano? Il nostro piano è di continuare con la nostra vita finché non dovrà andare alle scuole elementari, quindi a sei anni. Però c'è un'idea che io ho sempre avuto, perché capitava spesso che le persone ci chiedessero ma se un domani avrete figli come farete? Io ho iniziato a scrivere quando ero molto giovane, quando avevo forse undici o dodici anni, perché avevo la sensazione che nessuno mi ascoltasse. Intorno a me nessuno mi ascoltava. Io parlavo e le parole erano totalmente inascoltate e il foglio bianco è diventato il mio miglior amico perché il foglio bianco non può rifiutare nulla. Si prende tutto quello che gli dai ed è sempre pronto ad ascoltarti. Però questa cosa dell'ascolto, che è una dote che apprezzo tantissimo in te e che infatti credo sia il motivo per cui il tuo podcast è così apprezzato anche, questa cosa dell'ascolto mi è rimasta dentro. Per tanto tempo non sono stato bravo ad ascoltare. Poi grazie anche al buddismo, nel buddismo si dice che la parola più alta è il silenzio e che la saggezza più grande che ci sia è quando non apriamo bocca. Quindi ho imparato ad ascoltare molto di più e ho portato l'ascolto come valore nella mia vita, nella mia quotidianità. Quindi mi viene da pensare questo. Asia adesso ha un anno e tre mesi, crescerà e fino a sei anni vivrà la nostra vita. Ci arrangeremo, vivremo così all'avventura. Ma pian piano inizierà a comunicare, inizierà a parlare e quindi invece di pensare a cosa io e Claudia vogliamo imporle. Mi piacerebbe un giorno, quando magari avrà 4-5 anni, fermarmi con lei da qualche parte e chiederle tu cosa vorresti fare, dove vorresti vivere. Poi ascoltare la sua risposta e cercare di trovare un equilibrio tra quelle che sono le nostre aspettative per la vita, che è il nostro desiderio di vivere, è il suo. Prima dell'ultima domanda, visto che il tuo macro argomento è la felicità e tutte le persone con cui ho parlato mi hanno sempre detto che sono dei momenti. Che cos'è per te la felicità? Come vivi tu la felicità? Prima credevo che la felicità fosse tutto e che fosse una condizione che si poteva in qualche modo estendere all'infinito. Quindi io ho cercato di cavalcare quell'onda senza rendermi conto che era un'onda e che ogni onda prima o poi finisce. La felicità è una sensazione, è un modo di essere. Noi siamo felici, non è qualcosa che va raggiunto, è una nostra sensazione che proviamo, basata però su quello che la vita ci dà o non ci dà. Secondo me la felicità è strettamente legata al mondo esterno a noi. E infatti noi diciamo io sono felice di averti nella mia vita, sono felice di avere questo lavoro, sono felice di vivere in questa città. Noi non diciamo io sono sereno di una persona, sono sereno di un lavoro, suona male. La serenità riguarda il nostro mondo interiore, ma basandosi su fattori esterni la felicità inevitabilmente è molto fragile ed è anche transitoria, perché tutto quello che esiste al di fuori di noi è fuori dal nostro controllo ed è destinato a cambiare. Se noi pensiamo a come è cambiata la vita di milioni o miliardi di persone solo tre anni fa, quando un giorno ti svegli e non puoi più andare a lavorare, non puoi più andare a correre, non puoi più andare a ballare, non puoi più andare allo stadio, sei chiuso a casa tua solo con i tuoi pensieri, ti rendi conto che se tu hai basato tutto solo su quella sensazione esterna, la vita te la può togliere in qualsiasi momento. Quindi io dico la felicità è una sensazione che va vissuta senza pensarci troppo. Quando siate felici, c'è un libro che si intitola una raccolta di saggi, quando siete felici fateci caso. Io dico quando siete felici siate felici, non fateci caso perché se ci pensate alla felicità la felicità svanisce. È qualcosa che quindi va considerato dal mio punto di vista in questo modo, ma secondo me la riflessione più interessante è cambiare un po' la domanda. Invece di dire sei felice, quello può dipendere da momento a momento, anche per la persona più felice del mondo, chiediti sei felice della tua vita? Questa è la domanda. Perché tu puoi anche avere un momento di grande sconforto, puoi avere una giornata tremenda, puoi avere una grana difficilissima da risolvere, ma puoi comunque essere felice della tua vita. E in questo momento della mia vita io sono felice del mio percorso e del mio presente e delle prospettive future, ovvero non cambierei nulla di quello che in questo momento esiste. Questa per me è la felicità. L'ultima domanda che ti voglio fare è se sei fiero di te. Sì. Grazie Gianluca. Grazie a te. Vi ringrazio per essere arrivati fin qua, fino alla fine di questo episodio, che spero vi abbia restituito stimoli, delle belle vibes, vi siate identificati, medesimati e vi abbia potuto dare degli strumenti per potervi riconoscere, per poter andare avanti, per poter cadere meglio. Qui intorno a me vi suggerirò sempre alla fine di ogni episodio delle altre interviste affini all'argomento che abbiamo toccato. Buona visione.